Abbiamo cercato in ogni angolo della penisola, visto più di 500 provini, selezionato 160 artisti. Il premio, un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Batantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale, veramente. Presenta Gabriele Cirilli. Eccezionale veramente! Voi siete eccezionali! Perché eccezionale veramente, c'è un eccezionale pubblico! E il nostro eccezionale veramente, Diego Abbatantuono! Grazie, grazie! Sei diventato un jukebox! Numero uno! Ma sei a molla, come sei? A pile o a molla? A tutte e due, molla e pile! E vicino al mitico Diego, al sommo Diego, come dico sempre io, tra i fichissimi, lui è il fichissimo per eccellenza. Paolo Ruffini! Viva! Buonasera a tutti! Con lei, con lei tutti gli italiani farebbero le vacanze di Natale, andrebbero un'estate ai Caraibi e io personalmente vorrei che tu fossi l'ulentemente mia! Selvaggia Luccarelli! E' un onore presentare il nostro quarto giurato di questa sera, Carlo Vanzina! L'avventriloquia vi sembra un'arte del passato? Zio Tore vi farà cambiare idea, con le buone o molto probabilmente con le cattive maniere. Scatta la foto e tagga, tagga qua, qua, tagga! Zio, tagga, metti il nome di tua sorella! Per questo apprezziamo Andrea Fratellini, chi non vorrebbe uno zio come il suo? E' l'unico che ha il carattere più schifoso del mio, diciamo così, quindi io già mi sento sollevata. Dille che c'è anche l'allegato! Andrea Fratellini! Buonasera, buonasera a tutti, scusate, sono andato a recuperare mio nonno, questa volta lo zio aveva da fare e l'ho recuperato in un cantiere. Lui, non so, ha questa voglia di girare i cantieri. Nonno felice, nonno? Nonno? Ho capito, ho capito. Nonno un cantiere, guarda gli operai, nonno? Dove, dove, dove? Nonno, non vedo nulla, non vedo nulla, accendi la luce. Nonno, sono io, Andrea, devi aprire gli occhi, eh? Apri gli occhi. Oh, santo cielo, oh, che bello, hai visto che bello? Oh, santo cielo, che c'è? Sei grutto anche da vicino, grazie. Nonno, signori, nonno felice? No, casco, è un attimo, no, tranquillo, casco. Nonno, ti tengo io. Casco, idiota, toglimi il casco. Ah, scusami, è un deficiente. Dove siamo? Allora, sì, nonno, siamo davanti a quattro giudici. Cosa hai combinato? Delinquente! È stato lui, ho visto tutto a vostro onore. Nonno, no, sono quattro giudici, siamo in tv e ti stavo presentando. Allora, nonno felice, dai, racconta un po', quanti anni hai? 97, ho i cricchietti alti e corro ancora dietro alle donne. Ma non mi ricordo il perché. Nonno, dai, non ti ricordi proprio. No. Povera nonna. Nonno, ma con la nonna ti ricorderai qualcosa di eccitante. Ah, di eccitante? Sì, cosa hai fatto di eccitante per lei? Il caffè. No, 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 senti, allora facciamo... Sì, facciamo... Nonno, chi ha in bocca? Niente. Ti ho detto di non mangiare zuccheri. No, no, zuccheri, ti fanno male. No, no, è la colla che è la dentiera. È vero. Sì, ma dove è? Apri la bocca, e dov'è la dentiera? Non lo so. Quando si diventa vecchi si perdono tre cose. Cosa? La vista. La vista. La memoria. La memoria. E la terza? Non me lo ricordo. Nonno. Eh. Nonno, allora, per favore, scuta qua. Eh? Butta la gomma. No, 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 qui dentro, scusate, suate, acqua, acqua, cataroacido. Eh, no, funziona sempre con mia moglie, non è possibile. È vero, grazie, ho finito, cacchio. Diego, il nostro presidente, cosa ne pensi di Andrea? E suo nonno, soprattutto. Andrea e il nonno sono una persona... Devo dire che, insomma, è stupefacente la fattura. Ci ha detto, hai fatto la fattura. No, 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 quella mano, cioè, la mano, quella con l'orologio lì, la mano, non quella del nonno. Nonno ha due mani. Eh, una sai dov'è? Eh, lo so, lo so. È l'unica che identifico è quella lì, ma è quella che sta fuori, che è strepitosa. O no? Quando qualcuno riesce a trovare un'applicazione di un'arte come la ventriloquia e l'utilizzo di Pupazzi in una maniera così eccellente, per me diventa geniale. Mi tocca sempre fare la parte della bastarda. Comunque, voglio dire, è molto carino, nonno, felice, funzionate insieme. Mi manca un po' zio Tore. Io amo di più i rompicoglioni, purtroppo, lo sai. Sono così per un fatto di... Perché ti piace. Eh, mi riconosco. Mi erano in mente, mentre ti vedevo, degli spettacoli a Las Vegas. Io penso che a Las Vegas avreste un enorme successo. Quindi... Non so se è un... Come dire... Meglio che copri il biglietto. Mi stanno andando a pensare... È meglio emigrare, no? Si dice che i pigri facciano male tutte le cose. Ma al pigrissimo Giovanni D'Angella ne riesce bene una. Far ridere. A me mi piace andare alla posta. Ragazzi, è bellissimo. Vai lì, prendi il numerino e per tre ore non fai un cazzo. Al pigro Giovanni basta salire sul palco e lasciare che il lavoro vero lo faccia la giuria. Bello, bravo. Sai portare le battute, che non è una cosa così scontata. Però il personaggio c'è. Bravo, è efficace, ha una bella mimica, mi è piaciuto molto. Giovanni D'Angella! Prima ero al bar e c'era una ragazza che mi guardava anche in maniera abbastanza insistentina, devo dire la verità. Al che non so cosa mi è successo, ho preso, sono andato là e le ho detto scusa, volevo chiederti di uscire e lei mi fa, va bene, accetto ed è uscita. Mi ha detto, ma sì dai, meglio così che tanto io non è che proprio posso correre dietro alle ragazze con la mia malattia. Sono pigro. Mia madre non capisce e me lo fa pesare. Giovanni! Fai colazione e lasci la tazza sul tavolo. Bevi e lasci il bicchiere sul tavolo. Mangi e lasci il piatto sul tavolo. Mamma! E buttalo sto tavolo. Io non posso fare sforzi, ragazzi, ho avuto anche un incidente. L'altro giorno stavo camminando e c'era un palo in mezzo alla strada e buh, 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 mi sono finito proprio con la faccia contro. E' bello che l'ho visto. Solo che non c'avevo voglia di spostare. Mia madre dice, tu sei malato nel cervello, fa tu devi andare dallo psicologo. Dette, eh, muh, andare dallo psicologo. Non può avvenire lui. Questa settimana, per farmi una sorpresora, mi ha addirittura fissato un colloquio di lavoro. Io al tipo gliel'ho detto subito che ero pigro. Mi fa, sì, ma si ricordi che in questo ufficio iniziamo alle otto. Detto, non c'è problema. Va benissimo. Iniziate quando volete. Ma se io le dico contratto a tempo indeterminato, lei cosa mi risponde? Eh, che se mi minacci di nuovo chiami carabinieri. Mi dica un po', qual è la sua massima aspirazione? Ho detto, guardi, la mia massima aspirazione è riuscire a spostare gli oggetti con la forza del pensiero. Allora, aspetta, mi sta facendo girare i coglioni, hai visto che funziona? Bello mio, Giovanni, D'Angella. C'è tanto di attorialità, c'è tanto di recitazione e ha costruito un personaggio, a mio avviso, originale, divertente, completo. Il personaggio funziona, è interessante. E devo dire che il paradosso è che tu, il pigro, sei stato probabilmente il concorrente meno pigro di tutti quelli che ho visto, perché nella seconda esibizione si capisce che hai lavorato, hai lavorato molto bene sul testo, perché è all'altezza del primo. E lo sai che ha riso molto anche Carlo Manzina? Ti ho visto ridere, è vero? Che ne pensi di Giovanni? Dove sei? Io sono pugliese, ma vivo a Milano da 30 anni. Strano, no? Non c'è un giro neanche un po' di Milano. Forse la classe operaia non andrà in paradiso, ma l'operaio modello Enzo Emanuello tenta almeno di sfondare nel cinema. Il film si intitola Lo scomparso. Praticamente inizia che mi cercano e finisce che non mi trovano. Che cos'è la propria vita in fondo se non un cantiere in costruzione? Attufa davvero il muratore. Potresti abbandonare il cantiere e fare questo lavoro. Sei simpatico. Giurati, siate cavaldonati, ma non guardate in bocca a... Emanuello! Salve, il mio nome è Enzo Emanuello e di mestiere faccio il capocantiere. Per me la sicurezza nei cantieri è tutto. E per essere sicuro che nei miei cantieri non succeda nulla, io manco ci vado al lavoro. E' inutile che parto il mattino per sperare di tornare a casa la sera. Sono già a casa. Adesso sapete come mi chiamo, sapete il lavoro che faccio. Questo un po', l'avete capito dalla provenienza, dall'accento che è proprio una zona indigena, eh? Ma perché è solo 30 anni che sono qua in Lombardia. Invece mio socio, 50 anni che è in Lombardia, sembra Lombardo, se non parla. L'altra sera sono andato a casa sua, l'ho trovato che trafficava con la maniglia che andava sul balcone. Sono entrato così, l'ho guardato e ho detto ciao. E lui così, guarda Lombardo, mi guarda e mi fa un paure, va da ferramenta e mi piglio un coso che va da un coso. Che se non c'è un coso, un coso, va bloccato il coso e senza questo coso, caro mio, il coso non funziona. Perché senza questo coso, caro mio, il coso, se io 10 minuti di coso devo coso. A un certo punto, l'ho guardato e ho detto ci penso io. Sono andato all'afferramento e ho detto se glielo spiego come me l'ha spiegato il mio sogero, facciamo notte. Io lo dico in italiano. Ho detto senta, mi serve quel coso che va nel coso, che se non c'è il coso, il coso non fa girare il coso, il coso non blocca il coso. Poi senta sto coso, caro mio, il coso non funziona. E io ho detto, ehi, devo dire che nel frattempo che mi sta spiegando il coso che va nel coso, dietro di lei si è formata la cosa. E gli dico che lei mi sta rompendo quel coso che va nel coso, che se non c'è sto coso, il coso lo deve lavorare a mano. Siccome l'ho visto a quanto alterato, ho detto senta, facciamo così. Gli mando il mio sogero col coso in mano, così almeno vi mettete d'accordo voi. E così ho fatto, la sera sono arrivato a casa di mio sogero, ho guardato la maniglia, funzionava perfettamente, ho detto, ma, mi è rimasta la curiosità, sa cosa gli ha venduto. Allora ho detto, se glielo chiedo al mio sogero, vado direttamente alla ferramenta e, ecco, senta, si ricordi che stamattina io sono venuto e mi serviva il coso che andava nel coso, che poi mi ha spiegato che dietro si era formata la cosa, visto che è il parterrato, ho detto, ho mandato il mio sogero. Ma me lo spiega cosa gli ha venduto? Ma fa un coso che ho fatto un coso, questo cornuto non era paesano di mio suocero. Chi ti ascolta sente un'amicizia, un'accoglienza da parte della tua comicità, e questa è una gran cosa. Io faccio una valutazione fatta delle due volte che ti ho visto, però è una cosa che va capita anche da casa, è tutto cose, casa, cosi. Infatti chiediamo a Selvaggia cosa ti ha suscitato, Emanuello. Io non farei un gran paneggirico in questo caso, direi che mi è piaciuto un coso che hai fatto. Mi sono divertito molto, mi sono divertito e inaspettato anche, perché quando sei entrato non avevi quell'atteggiamento che hanno certi comici che già ti vogliono far ridere, perché sono vestiti in maniera stralagante, hanno i capelli dritti, no, invece tu sei venuto così in canotta e mi hai fatto ridere. Forzare le pieghe del surreale, elencare equivoci e rendere comico il disagio. Nessun problema per la coppia Dondarini e Dalfiume. Le mani Davide, le mani, un'ora per ste mani. Se deve essere un problema le tengo dietro, sanno che le osse serve. E poi le domande, il ruolo centrale delle domande. Mi chiedo da cosa sia nato questo pezzo. Se lo chiede da sola, non lo so. Dondarini e Dalfiume! Vado io? Va bene. Marco Dondarini, attore, comico, improvvisatore, showman, truffe. Davide Dalfiume, in inglese from river, tedesco von Fluss, dialetto Dalfiume. Non c'è bisogno di fare l'elenco di tutte le... Qui ogni volta che sali su questo palco tutti si atrofizzano le mani. Le mani sono normali, le mani l'han visto. Non puoi stare così, le mani... I piedi vanno bene. Ma non è che vanno bene anche i piedi, cioè le mani e la postura... Le metto in tasca. Oh! Tutti e due da una parte. Nell'altro le chiavi. Toglile! Togliele le chiavi. Ma non le tengo le mani, le terrò le mani, dai, piuttosto. Ecco, adesso iniziamo. Cos'è? Sei un musicista, è un flauto? Ma che, la sigaretta elettronica per smettere di fumare? Ah, te fumi per smettere di fumare? Non è meglio se smetti di fumare per smettere di fumare? Questa, c'ha anche il cavetto USB da attaccare al computer. Fumi su Facebook? Cosa c'è, inter, se fumo su Facebook? Crei l'evento, clicco mi piace. Ascolta, andiamo avanti. Piuttosto, ce l'hai la battuta rompighiaccio? La vera battuta rompighiaccio di tutti i comici? Ce l'hai? Non so. Come non lo sai? Vabbè, la faccio io. Allora, questa sera sono venuto qua a Milano, non trovavo gli studi, sono passato, per sbaglio, in una corsia preferenziale, mi ha beccato una vigilessa, ma guardate, mi ha detto, sarebbero 35 euro. Sali! Dai, falla a te. L'hai appena fatta? Ma cosa c'entra? Come uno le porta le battute, la comicità è tempo, vai. La sanno già. Ma cosa c'entra? Come una barzelletta, se la sai raccontare, fa ridere, se no, no. Eh, sono arrivato sulla corsia preferenziale. Aspetta, aspetta, se hanno già la corsia preferenziale, condiscila, prendila già da più lontano. Ero sulla Salerno-Reggio Calabria. Ma non così lontano, non... Dimmi dov'ero che vado lì. Ma... Ero nei pressi di Milano. Eh, tra l'altro mi sono perso. Come ti sei perso? E allora c'era un uomo, gli ho chiesto l'informazione, dice, non sono del posto. Cosa c'entra? Dovunque vado io trovo sempre quello lì, che non è del posto. Che mi è venuta la curiosità, ma di che posto è quello? Ma cosa c'entra con la vigilessa? Andiamo avanti, dai, vai, vai. No, perché almeno vado dalle sue parti, mi faccio dar l'informazione giusta una volta tanto. Che poi per me non lo sa più, perché è sempre via da casa. Ma basta! Fai sta cacchio di battuta, vai. Allora, arrivi, vai. Allora, sono arrivato alla corsia preferenziale. Ho visto la vigilessa. Ecco, adesso, battuta, tempo, vai. Mi ha fermato, mi ha detto, 35 euro, me li ha già datti Don Darini. Ma no! Non ci può lavorare, cugino. E secondo me, quando tu hai una cosa che funziona, come le copie comiche, che hanno delle caratteristiche specifiche, hanno fatto quello che avrei fatto io, ci hanno modificato il testo e sono andati avanti nel loro percorso. Quindi bravi come l'altra volta. Bravi. Questo è il giudizio di Diego, adesso sentiamo Paolo. Allora, sono una coppia totalmente improbabile. A me quello che mi fa impazzire è che non c'entrano niente. Fanno una cosa che fa il giro, cioè fanno meta cabaret. Cioè, vuol dire, loro si presentano sul palco, si sfottano dicendo... E l'altra meta? L'altra meta è quell'altra improbabilità di lui. Cioè, lui dice, fai una battuta d'apertura, vai, quella è rompe il ghiaccio. Cioè, si sfottano da soli. E sono fantastici, fantastici. E invece, Selvaggio, tu cosa pensi? Beh, il personaggio del signore, il finto, vero, tonto, stralunato, che non sa mai dove... È finto o vero, tonto? Ecco, passiamo alla domanda successiva perché... Scusa, fala direttamente a lui, che la fai alla sua palla? Lei è finto o vero, tonto? Io, cioè, applicandomi può darsi che delle volte rimanga un po' impigliato. Ma dove? Comunque, la cosa bella è che, insomma, lui non sa mai dove mettere le mani, il pubblico... Invece le mani le usa per applaudire alla grande, siete molto divertenti. Perché non frequenta lei, se no saprebbe dove metterle le mani. Carlo, ti sono piaciuti, Carlo? Don Dallini d'Azio, ma ti sono piaciuti, no? Moltissimo, moltissimo, molto, e proprio quest'aria che non ha, sembrava un signore che è uscito in questo momento per fare giardinaggio, per stare comico. In effetti non sei neanche vestito benissimo. Ma ti fa a lui? No, con me, a te. Paolo sì o no? Eh sì! Diego sì o no? Sì, sì, sì. Selvaggia sì o no? Sì. 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 Soffrite di carenza d'affetto, siete intrappolati in un conflitto materno e avete una sorella ingombrante. Molto più bella di me, molto più intelligente di me, molto più alta di me. Lei è 15 anni più grande di me e la gente pensa il contrario. Insomma, siete un po' come Nadia Spicuglia, in arte spicco? Beh, venite pure a eccezionare veramente e non vi sentirete mai sole. Sei molto brava e hai un vestito più bello del mio! Ciao! Allora! Ciao, io sono Spicu. Spicu è un nome che deriva dal mio cognome che ho dovuto accorciare perché siccome... Questo, quello che faccio, è un gesto che mi ha consigliato la mia analista, vabbè perché io vado in analisi, e serve per scaricare la rabbia perché in me c'è tanta rabbia dentro. Ciao, mami, tibi tibi, sei qui nel mio cuore perché io amo mia madre e anche lei ama mia sorella. Io ho un rapporto bellissimo con mia madre e con mia sorella e entrambe veniamo trattate in famiglia allo stesso modo, non è vero? Ad esempio, e mia madre ci regala sempre tanti bei vestiti, solo che io non li posso mettere perché sono tutti della taglia di mia sorella. Ma perché lei è più magra di me, più bella di me e poi riceve sempre un sacco di complimenti, tant'è che arrossisce sempre e invece non arrossisco mai perché nessuno me li fa. Ad esempio, quando vado dal parrucchiere, mia madre mi chiede dopo se mi hanno schiaffeggiato in testa. Ma perché lei si preoccupa per me? Comunque la mia analista mi ha detto che un'anima deve per forza occuparsi della propria bellezza. E allora mi ha consigliato di occuparmi del mio aspetto. E così io sono andata in un negozio di cosmetici, che il nome non lo dico, e appena sono entrata mi hanno subito detto Ciao, vedo che le occhiaie trascurate, abbiamo un correttore per gli occhi, e uno per gli occhiali da sogli assi, 99 centesimi. Lo vuoi provare? Poi mi hanno spiegato che ci sono tanti tipi di rossetto. Ciao, abbiamo un rossetto per il bacio stampo lucido senza sbattere, lo vuoi provare? 99,99 centesimi. Ho speso 343,99 euro. Poi però, quando sono tornata a casa e ho messo lo smalto, ho iniziato a fare E' arriva dell'estate! Abbiamo uno smalto di asciugatura ravita e ventilata, lo vuoi provare? Ho parlato con la mia analista di questo episodio e insieme abbiamo deciso che forse è meglio Non più una terapia d'urto a base di cosmetici, ma di psicofarma Perché io amo mia madre e anche lei ama tanto me No, lo smalto No, mia sorella! Ciao, mami! Ciao! Spicu! E' brava come ribrava l'altra volta Trovo che è nella realtà, in questa realtà, il contrario esatto di quello che interpreta Ovvero, è sicurissima di sé, porta bene le battute, ci crede e secondo me sei anche un'ottima attrice Io vorrei tanto vedere tua sorella a questo punto No! Sembri un po' una sorella della Ferragni, capito? Di Chiara Ferragni Cioè, una che ha sta sorella figa, perfetta e quindi ce la porti in ultima puntata se ci sei E poi ci sta sorella figa, ci vediamo un'occhiata anche noi Così, esatto Ci vediamo fra pochissimi Come direbbe Tirzan questa cosa? Però me lo devi dire tu perché sarebbe troppo semplice farlo dire a Diego Che la ricerca dell'eccezionale veramente vada avanti, come direbbe? Cula, scula, scula E allora? Cula, scula, scula Devo dire, io ho una simpatia per il palermitano Da Palermo però, Francesco Rizzuto, classe 66, viene a vivere a Milano E questo da linfa la sua comicità Se tu vai a Palermo e urli Salvatore! Si girano in cento Non è come a Milano che per fare girare trenta persone devi urlare Mohamed! Milano che ha già regalato a Francesco diverse occasioni televisive Credo che anzi, questo denote anche una bella umiltà Che insomma, in questo ambiente non fa mai male Francesco Rizzuto Buonasera, buonasera Le persone che più amano nella mia vita sono i miei nonni A mia nonna gli ho aperto la pagina di Facebook Si chiama La Cubana Perché è un metro per un metro per un metro, un metro cubo Abbiamo pubblicato le foto di Carnevale Che se vestite da Arlecchino L'hanno scambiata per il cubo di Rubik Lei quando cucina, frigge qualsiasi cosa C'ha la stecca dell'olio della macchina Controlli Chia la tanica Mia nonna ha detto che quando muore non vuole essere cremata Vuole essere fritta E' sposata con mio nonno da 60 anni Mio nonno è una persona eccezionale Solo che lui interpreta le notizie così Aveva sentito parlare di queste caramelle blu Era convinto che le vendevano al punto blu Si è presa la macchina e è arrivata al primo punto blu E' entrato, c'era l'impiegato Che ha detto Senti, me ne dai una di quelle cose per alzare la sbarra Un telepass Un telepass Senti, ma come funziona? E niente, tu lo metti nella macchina Non devi fare niente Quando ti serve la sbarra si alza da sola Guarda, te la mani di te Che stasera mia moglie ci faccia fare il giro tutta la Sicilia E' uscito con queste tre telepass E' arrivata a casa Mia nonna quando l'ha vista E' detto Se vattene, ma quanto ne hai preso? No, ce ne ho preso Ma come funziona? Non devi fare niente Lo stai Le metti nella macchina Quando ti serve la sbarra si alza Che mia nonna gliel'ha cucita nelle mutande Noi ci abbiamo le telecamere I miei cugini hanno detto Collegate con la casa del nonno C'era mia nonna a petto ludo Con tre mutande Qua tre telepassi nelle mutande Mia nonna lì fa Rimane paccheggiata che mette in moto Ci sta arrivando Pipì, pipì, pipì Dopo venti minuti mia nonna gli ha detto Se hai fatto la macchina che fa T'hanno fottuto i soldi Fa no, forse non c'è il campo Non funziona Ci hanno fatto tenerezza Abbiamo raccolto i soldi Gli abbiamo regalato Le confezioni di piaga Quello originale Mia nonna si è seduta Mangia alle 22.30 Alle 16.00 il pomeriggio Sono seduta a tavola Mia nonna si è messa un filo di rossetto Di due gocce di cianello numero due Lo diluisce con l'olio Dice che ancora è buono Sono seduta Mia nonna si è messa le pastiglie Accanto al piatto Guardava a mia nonna Un pezzo di pane E una pastiglia di viaggio La focchetta di insalata E una pastiglia di viaggio Un pezzo di carne E una pastiglia di viaggio Alla quinta pastiglia di viaggio E il tavolo faceva cozzi Che mia nonna ha detto Oddio ci sono gli spiriti Dove? Che me le fanno tutte Per farla breve L'abbiamo dovuto ricoverare In ospedale Mia nonna ha detto Minchia ora che sta bene In ospedale ve lo portate Grande Francesco Lui ha fatto due minuti e quindici Una mitragliatrice L'ho trovato molto bravo Devo dire un monologhista doc Ma io Lui è bravo Insomma è veloce Come diceva Paolo Il pezzo tutto sul viagra E un po' La fine Penso che si potesse accennarla Usarla E poi passare ad altro E avere più Più varianti La parte centrale È talmente veloce e rapida Che alcune cose si perdono un po' Cioè è vero che sei una mitragliatrice Però in alcuni momenti Sei perfino troppo veloce Ci sono delle piccole cose Che mi sono sfuggite È un pezzo Io direi Mediamente divertente Non mi ha entusiasmato Però Buono Carlo Tu che ne pensi del nostro siculo? Beh Mi sono divertito molto Perché Mi piacciono molto i siculi Vabbè Il testo si può mettere a posto Insomma Però lui ha del talento Quindi Paolo Un sì o un no? Sì Diego? Sì Selvaggia? Sì Tre sì Per Francesco Grazie Quando gli allenatori Hanno bisogno di qualcuno Che li alleni Chiamano lui Il coach Dei coach Dan Peterson I love you guys Che onore Se per usare un ukulele Servisse un porto d'armi Paolo Franceschini Sarebbe senza dubbio abilitato Sono stato in un bosco Non c'era neanche un po' di polvere Era pieno di folletti Benissimo E i proiettili E i proiettili esilaranti Colpiscono il bersaglio Ti ci butti a capo fitto E questa cosa è straordinaria Sì 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 Paolo Sì 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 Quanti sì Paolo Franceschini Buonasera Buonasera a tutti Scusate che ho vissuto a Viareggio qualche anno Ok Allora Buonasera a tutti Scusate ma sto arrivando da uno spettacolo di varietà E quindi mi ritrovo qua in una situazione Ero ad assistere a delle performance bellissime Quella che mi ha colpito di più in assoluto È stata quella di un body painter I body painter sono quelli che pitturano le persone E mi è piaciuto molto che alla fine della sua performance Ha dichiarato Ringrazio tutti coloro che coloro Ed è stata una cosa molto bella A un certo punto all'interno di questa performance Mi chiedono Fai qualcosa Fai le imitazioni Ma io le imitazioni Ho detto Non riesco a farle Fai quello che riesci a fare Io ho detto L'unica cosa che riesco a fare è la gallina Ho detto Com'è la gallina? Ha iniziato E loro No non va bene Mi sembrava anche di non averla fatta neanche malaccio Anche perché io è da cinque anni che vivo con una gallina Perché l'ho salvata da una situazione molto dura Lei lavorava in nero prima Invece da quando adesso sta con me Lavora con me Un regolare contratto co 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 Lei è contenta Abbiamo avuto anche il coraggio di denunciare il suo vecchio datore di lavoro E l'abbiamo denunciato Infatti adesso ci aspettano in tribunale per andare a deporre Ma credo andrà solo lei Quindi a questo punto Grazie Quindi a questo punto A mia grande richiesta Che tra l'altro condivido con me stesso Farò una canzone tratta dal mio album Per questioni organizzative Non ho potuto portare qua la mia band Però ci tengo a salutarla La mia band che è composta Alla batteria dall'elettrauto Ai piatti Nelson Al basso Brunetta Alla chitarra e gli spaghetti Alla tromba d'aria Alla viola Valentino Ai fiati la cipolla Dirige l'orchestra Il maestro albero Conosciuto da tutti i marinai come Albero maestro Vado ora quindi a farvi Una canzone Canzone tratta dal mio album L'album dal titolo Se vuoi dormire su Pino almeno chiediglielo Vado a fare questa canzone Che ho scritto mentre ero in Peru Dove tra l'altro ho scoperto Che tutte le donne che vivono Nella capitale Hanno le mani curatissime Infatti vivono a Lima Vado Ora a fare questa canzone Se ci sono donne particolarmente suscettibili Consiglio di non guardare Perché c'è un movimento pelvico Che non si vedeva dai tempi di Elvis Vado con la canzone dal titolo Eh 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 I peruviani solitamente hanno poca barba Perché girano con lama Benissimo È finita la canzone Torno al Varietà di prima Grazie Ecco io ho visto un'esibizione Un po' troppo simile Alla prima Eh perché come dice il fornaio Ho voluto mantenere il filone Scusa Scusa È più forte di me È più forte di me Diego cosa ne pensi di Paolo? Beh Avevamo la trotta Avevamo riso Era divertente Ha mantenuto Ha mantenuto La parola data È stato divertente che stavolta Una bella faccia Insomma Credo che noi cerchiamo anche quello È un personaggio che si potrebbe inserire Sì però se è la seconda volta che uno arriva qua Non so come la pensi tu Io vorrei vedere qualcosa di diverso Beh io conosco alcuni miei amici Che lo fanno da circa 35 anni Hanno avuto anche un dischetto successo Lui è una mitraglia di bischerate Ma con una convinzione tale Da poter diventare quasi lirica la bischerata Paolo è ovviamente In America quello che scrivono le battute Si chiama gag writers Ok? E lui ovviamente è il suo miglior gag writer Perché aveva una sequenza Lui è a mitraglia Proprio così In tre minuti mettere dentro tanta roba Non è facile 32 anni da Salerno Faccia da Andy Garcia E indole da pacifista della comicità Ma per Francesco D'Antonio I guai iniziano già in famiglia Mio fratello si è sposato giovane Perché ha messo in cinta la mia ragazza Cosa c'è di meglio in questi casi Che trovare una nuova famiglia Da cui farsi adottare? No è andata bene Sono anche contento Speravo in Selvaggia che mi invitava Perché avevo già le risposte separate Tranquillo e serafico Non forza mai nulla per avere l'applauso La 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 Francesco D'Antonio La mia ex fidanzata si è rifidanzata con me Perché non mi ha riconosciuto Quando se ne accorta si è giustificata Dicendo che non riconosce rivolti È una malattia Si chiama prosopagnosia Che tradotto vuol dire che è zoccolo Che Però mi è sempre andata male Pure quando ho provato a fare il pakistano Quello che vende le rose Mi hanno licenziato perché Non riuscivo a trasformare la rosa In ombrello quando pioveva Per questo preferisco sognare Pure adesso Tutto il rispetto per voi Però voi non esistete Voi siete solo una mia proiezione Praticamente il mio inconscio Che si esibisce davanti al mio subconscio Cioè se io non vi piaccio È perché io non mi piaccio E se io non mi piaccio È perché il mio subconscio È bastardo dentro Subconscio Chiaro no? Che la realtà è complicata Anche le cose semplici Tipo fare la spesa Vai sui mercato per comprare lo shampoo Duemila tipi di shampoo Shampoo per capelli fini Shampoo per capelli sottili Shampoo per capelli grassi Shampoo per capelli tinti Poi ne prendi uno Shampoo per capelli normali E mo' che vuol dire normale? Poi c'è anche lo shampoo antiforfora In realtà ho scoperto che la forfora Non è nient'altro che pelle morta Fortunatamente io uso lo shampoo alla camomilla La forfora non passa Però almeno la pelle muore nel sonno Vabbè poi ci sono anche gli shampoo doppio uso Shampoo basso Shampoo doccia Poi c'è neanche uno nuovo shampoo Intimo Particolarmente indicato per le teste di cazzo Questo Non c'è Però preferisco sognare Lo preferisco Una volta ho sognato che avevo una tartaruga marina Gli ho dato così tanto da mangiare Che è diventata obesa Con la pancia Si è dovuta mettere il guscio al contrario Era l'unica tartaruga marina Che luotava d'orso Che era Bellissimo Però ci tengo a dire che Sono amante degli animali Da piccolo ho anche avuto il pesciolino rosso Vabbè con un po' di pomata Mi è passato E però Però mi piace leggere Mi piace leggere Leggo i libri di Agatha Christ Conoscete no? Agatha Christ La sorella di Gesù E A proposito L'altro giorno Mi è apparsa la Madonna Sapete no? Ci sono diversi tipi di Madonna C'è la Madonna di Lourdes La Madonna di Fatima La Madonna di Međugorje A me mi è apparsa la Madonna Di Spalle Che Stava girata Che Forse stava facendo il miracolo a un altro E mi sono trovata a passare Che A un certo punto si gira Stupita Tu chi sei? C'era Sorpresa di vedermi C'ero io Era apparsa la Madonna Capito? Però poi Ho trovato Le parole giuste L'uscita Mi ha fatto molto ridere Con originalità E Secondo me Insomma Lui è un talento Secondo me Non c'è bisogno Di annunciare Che tu fai Sognare La qualità Vera Sta nel surreale Assoluto Sta nell'olicità delle battute Sta nel creare Delle immagini Va messo a posto un po' Quel modo di buttare via Perché secondo me La cosa vincente È proprio il modo di buttare via Delle battute di grande qualità Secondo me è una figata Vedevo che ti appuntavi delle cose No perché È una lettura un po' diversa Rispetto a quella di Diego Cioè io credo che lui Ripeta quella frase Perché è proprio una tecnica oratoria È una cadenza quasi ipnotica Poi comunque la battuta su Te che appari Alla Madonna Insomma vale tutto Tutto il pezzo Dan la pensi così anche tu? Assolutamente Dicono A meno mi dicono a me Che i più grandi comici in Italia Vengono dalla sua parte E lui ovviamente fa parte Di questa Questa identità Assolutamente Non tutti ecco Qualcuno si muove Con eccezione Con eccezione È il numero uno Cosa c'è di più protettivo E di più civile Della protezione civile? Oddio Ma siamo proprio sicuri Soffocamento da cibo Un volontario Bravo Dani Annegamento Un volontario Bravo Dani Arresto cardiaco Un volontario Dani Sempre di Placcia Cristian, Gilberto e Daniele I pro Gildan Convincono Però mi sembrano bravi Eh ma con un'avvertenza L'unico problema Che ho notato E che non so se chiamerò La protezione civile Quindi Giurati Dimmi dimmi Siate Cestisti Ma non c'è state troppo a pensare Per I pro Gildan Chi hai? Chi hai? Tecniche di autodifesa Sensei Gilberto Assan I miei allievi Praccia Assan Chi hai? Chi? Chi hai? Daniel Assan Chi hai? Chi hai? Chi hai? Chi hai? Chi hai? Salutate Ciao 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 Bene Posizione Prima tecnica Terribile Nicchio Daniel Presa Chi hai? Bloccaggio Chi hai? Messa in sicurezza Chi hai? Contromossa signori Impossibile Impossibile Bene Lascialo Daniel A dimostrazione Non fargli male Seconda tecnica Ipnosi Daniel Concentrati Posizione Ipnosi Addormentalo Colpiscilo Più forte Più forte Bene Risveglialo ora No Ho detto risveglialo Aspetta Proccia Assan Hai sentito dolore? No Vuoi provare te ora? No Con la stessa tecnica No Bene Risveglialo ora Daniel Assan Hai sentito dolore? Andiamo avanti Terza tecnica Adesso signori Parliamo di punti di pressione Ora vi dimostrerò come annientare l'avversario Con la sola pressione di due dita Chi hai? No Troppo facile Bene Troverò con lui che ti piglia più grosso Chi hai? Che è successo? Ho fatto massa Ma tiralo su Andiamo avanti Scusate Terza tecnica Terza tecnica Doppi e prosi Daniel un'altra possibilità Doppi e prosi Consenso Sì Addormentalo Colpiscilo Risveglialo Oh Chi hai? Tiralo su Scusate Tiralo su Quinta tecnica Resistenza al dolore Daniel Posizione Concentrati Il tuo corpo deve diventare d'acciaio Pratcha San Colpiscilo con tutta la forza che hai Pratcha What the What the Bravo Bravo Pratcha Grande Daniel Andiamo avanti Ma tiralo su Tiralo Scusate Tiralo su Ultima tecnica Ancora punti di pressione Ma basta Ma punti di pressione Sembra meno Chi hai? Ma fa Chi hai? Chi hai? Chi io? Eppure Chi hai? Ma portalo via Scusate Non è possibile Secondo me Hanno fatto una bella cosa Poi è molto costruita C'è un bel lavoro dietro E' un po' Uno star trek Del food Insomma C'è dentro un po' tutto No Poi Stiamo vedendo che vi siete anche messi in forma Allenandovi Quindi vuol dire che vi fa bene comunque Mi avete fatto molto ridere Vi trovo molto molto bravi Grazie a voi La nostra selvaggia Lucarelli Buonasera Buonasera La grande capacità tecnica La vostra intesa La velocità Per cui che dire Insomma Non mi piacete Ma vi apprezzo E vi stimo Per quello che fate O a loro hanno il ritmo Che è il segreto della comicità Come la televisione Come lo sport E quindi Ho apprezzato questo Vedi sì Grazie Certo che sì Grazie Grazie Sì Sì sono tre La canzone d'autore francese Ha sempre trascurato il tema Dei lavori domestici Ma Vanessa Giuliani Ci mette una pezza Passa a me Passa a me il mocio Mi vida e pulir le schiffe Sei che fa quello lì Una rivalza della casalinga Frustrata dal marito disattento De questo stronzo qua Io sono d'accordo con Selvaggia Viva le donne Viva le donne Sempre Vanessa Giuliani Sì 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 Buonasera Buonasera Sicuramente vi starete chiedendo Perché una bella donna Simpatica Intelligente E soprattutto francese È capitata qua Solo perché ho trovato Parchesio E allora Dato che sono qua Vi faccio sentire Una canzone Del mio ultimo Cd Nel mio kit Pack Che ti chiede Muessi Che mi faccio Chiede Da tua E una canzone Per palati fini Che ho scritto Per un uomo Che mi ha tanto amata Mi ha tanto cortegiata Mi ha tanto desiderata Me l'ha battuta Allo sfinimento Allora Quando lui mi prende Fra le brass E io sinto Il suo doras A me viene Lo nervoso Se gli parlo Dell'amor Mi sbatte contro Il mur E vuole Quella cosa Io gli dico Mon chéri Su dai Non fa così Lo sai C'ho le mie Chosa Se fai da te Senza di me Che vuoi che sia Tu non lo sai Quante scene Che la dan via Sai Che force Lo persuas Ma neanche Pericace Ma che nervoso Per favore Non dite a nessuno Che sono stata qui Merci La signora Che abbiamo già visto L'altra volta Ed era brava Ci è piaciuta Si presenta In maniera Originale E' uno strano Meccanismo Dell'originalità E' originale Per oggi E quindi Insomma Sono un po' Frastornato Credo Come per altri casi Che questo sia un personaggio Che possa avere anche Carburante e benzina Come dicevo Per creare un personaggio Cabarettistico Comico Magari per una serialità Di trasmissioni Non so Ti devo dire Se questa abilità E' anche duttilità Ed è quello Che cerchiamo noi Questa serata Secondo me Sancisce In via definitiva La differenza Tra uomo E donna Gli uomini Hanno dato tutti Il meglio di loro La prima volta All'inizio Noi abbiamo mantenuto Un livello molto alto Noi donne Nella fattispecie Tu Quindi veramente Molto brava Molto brava Grazie Complimenti Tu quasi meglio La seconda Della prima Grazie Bene Era dai tempi Di Joe Squill Sabrina Salerno Che in ossettiva Una dichiarazione Di siamo donne Così Veramente E pur toi Dan Well ovviamente Io lo vedo Per la prima volta Perché ho apprezzato Molto la voce E la grande auto Ironia Da quello che ho capito Insomma c'è un sì Da parte di Selvaggio Giusto? Passiamo a Diego Sì anche per me C'è il tuo sì Quindi sei già passata Ma sentiamo anche Paolo Sei all'unanimità È un sì Tu sei bravissima Il mio dubbio è Funzionerà Quindi io Ti dico di no Carlo De Benedetto Classe 62 Si traveste da ninja E se invece fosse un vero ninja Ma travestito da Carlo De Benedetto Perché io pensavo a Kung Fu Panda Mentre lo vedevo Ma tu sei un padre di famiglia No? No, no, no Il tipo di umorismo che piace a me È quello che Quando succede qualcosa Che non mi aspetta Sono un ninja Non ho capito Carlo De Benedetto Beh Cos'è Non avete mai visto Un ninja in piena forma Io Ninja si nasce Non si diventa Quando devo partire Per le missioni Anche il maestro Il mio maestro Ci dava il nome in codice Io mi chiamavo Zunami E con me c'era Tornado Pioggia Neve Vendo Di tutto Mi ha detto Ninja Ma con una squadra così Cosa faresti? Io ci ho detto Maestro Con un tempo di merda così Me ne sto a casa Non esco nemmeno Di qua Nossa Nossa Assim você mi mata Ai Se eu ti pego Ai Ai Se eu ti pego Vai Una settimana fa Sono andato al supermercato Ci avevo voglia di sushi Appena sono entrato dentro Un gruppo di teste di ninja Mi hanno saltato addosso Ehi Per due che ne stendevo Altri tre mi uscivano Da sotto lo scaffale Per due che ne stendevo Altri tre mi saltavano addosso Per due che ne picchiavo Altri tre mi uscivano Da tutte le parti Sono scappato dopo due ore e mezzo Con due occhi così E ho capito la situazione Mai andare al supermercato Quando fanno il tre per due Porca miseria Sem tu marito Sem tu marito Se tu marito S'ha persegato Sed'ami Madona 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 In realtà tu potresti anche solo fare il balletto, basterebbe già quello. Ma io ho sempre fatto quello. Tu hai questo vantaggio che anche se stai fermo, anche se non fai niente, comunque dai un effetto. Le battute erano più belle di quelle dell'altra volta, secondo me. Grande ballerino e grande showman. Cominciamo da Selvaggia. Sì. Paolo? Diego? Dico no per forza, perché penso che è no. E' eccezionale veramente. Abbiamo visto i primi talenti comici, ma la gara continua. Ma... Cosa fa una donna? Anzi, la donna della vostra vita dopo il matrimonio. Cambia. Perché prima... E' una furia dalla natura, è assatanato, è una porca, è un... Invece dopo... La donna come dice sì sull'altare, pfff, gli scende il culo di 5 centimetri. Ma sto culo di chi è? E che ne so, che moglie di a me? Insomma, Nino Taranto. Grandissima esperienza e un risultato che, per fortuna, non cambia. Quando si dice i tempi. E' il capare classico. Rocco, aiutami allora, dai, con l'inventiva che ti contraddistingue. Uno di questi miei lanci che tu mi hai sentito fare durante tutta la puntata. Ti prego, fanne uno tu, dai. Va bene. Vai. Giuria. Sta per arrivare un monologhista che è stato definito bravo. E quindi speriamo che il suo pezzo sia bello. Va bene? E lui è... Mino Taranto! Non ce l'ho con le donne. Le esalto perché sono belle, sono brave e vincono sempre loro. Sugli uomini le donne vincono sempre. Cioè, ma perché la donna vince sempre? Perché usa un trucco. E io so qual è, e mo' ve lo dico. Le donne vincono perché non ti daranno mai una risposta. Fanno solo domande. Se tu domandi a un amico, che io lo so, quello guarda l'orologio e te lo dice. Se domandi a tua moglie, che io lo so, perché che devi fare? Devo andare da Donino. Che gli devi dire? No, domani io lo mando. Vai? Sto a casa, sto a casa. Vincono sempre loro. Hanno occhi bionici. Hanno occhi meco. Vedono cose che noi uomini non vedremo mai. Le donne riescano a vedere la polvere sul comodino. Io certe volte manco il comodino. Le manie che è della polvere. Ci sono le manie che è della polvere. Le manie che è della polizia. Io ho mia moglie che è maniaca dell'ordine. Ma maniaca vera. Mia moglie mi mette le camicie per colore. I pantaloni per colore. Le scarpe per taglia. Ho detto, ma ciò ho 42. Te taglio pure queste. Basta e metti a posto qualcosa. Mia moglie è talmente maniaca dell'ordine che io mi alzo la notte e vado a far pipì. Torno a letto ma rifatte il letto. Ma che ne siete? Ma come mi vuoi? Vedono tutto loro. I colori per un uomo. So il bianco, il verde, il rosso, l'arancione, il giallo, il nero, il marrone. Le donne vedono colori come il pervinca, l'indaco, cremisi, fucsia, che io non so manco come si scrive. Le crew, ero convinto che era centro commerciale. Siamo diversi in tutto. Un uomo in camera da letto opera il cassetto del Comò. Lei sta in cucina. Amore, dove stanno i calzini blu? Secondo te? Una domanda mi ha fatto. I calzini blu? Dentro al cassetto. Quale? Quello che è aperto. Adesso, sì, adesso. Vedi? Adesso. Non ce stanno. Li vedo io da qua. Ti putti. Non ce stanno. Guarda, non mi fa venire da là. Perché se vengo da là e li trovo, te li metto per il cappello. Mi sono fatto il cane da calzini. Boni che non c'ho tempo. Mi sono fatto il cane da calzini. Pedalino, io e qua. Manca il cane, la trovi. Lei arriva, guardami. Questi che sono. Come hai fatto? Vedono tutto loro. Noi, no. Per parafrasare un allenatore di calcio, credo che fosse, dico, comico è quando il pubblico ride. Sì o no, Diego? Come dici? Sì, sì, sì. Paolo? Certo, sì. Semboggia? Sì. Un punto di vista divertente e originale sul mondo? Rivolgersi a Roberto Lipari, 25 anni, da Palermo. Minchia è stupore. Minchia. Minchia è il complimento. Minchia. Minchia sottolinea la gravità di qualcosa. Minchia. Noi facciamo tutto con una minchia. Sintesi argute e ironie lievi, come solo un fiero figlio della Sicilia, sa esprimere. Non so se tu capisci l'accezione con cui lo dico, però dico minchia. Roberto Lipari. Faccio il comico perché mi pongo delle domande e il mondo mi dà risposte assurde, fin da bambino. Dicevo, mamma, ma perché abbiamo castrato il cane? Dice, perché gli volevamo bene. Dice, ma perché abbiamo castrato il gatto? Perché gli volevamo bene. Poi una volta mia madre è entrata nella stanza e fa, lo sai che ti voglio bene, ma chi ti conosce? Io faccio il comico, che non è un mestiere ben visto il comico, infatti tra colleghi si dice, mio padre sarebbe più tranquillo se avessi fatto lo spacciatore, perché non ci rispettano. Tu dici, sei comico? Me la fai una battuta. Ma perché? Come dire, sei ingegnere? Me la fai un palazzo. Sei pizzaiolo? Me la fai una margherita. Sei pugile? Bravo, continua così e non ti ferma. Scusate, in cinque minuti già me la sono presa con gli altri mestieranti, con mia madre, perché io sono nato in un mondo competitivo. Nord contro sud, destra contro sinistra, carabinieri contro polizia. Sì, perché competono, non collaborano. Te ne accorgi da nomi che danno alla macchina. La macchina della polizia si chiama Pantera. Di tutto in risposta, quella dei carabinieri si chiama la Gazella. Di tutto in risposta, l'unità in moto della polizia si chiamano i falchi. Che una volta ho visto un articolo di giornale, una rapiniera, si presentano un falco, una Gazella, una Pantera, solo non si vedono i due leocorni. Siamo l'unico paese che ha la competizione anche nella religione. Avevamo una competizione a livello regionale alimentare. Cioè, ogni regione c'è un santo che cucina. Tu vai in Campania e ci sono le zeppole di San Giuseppe. Vai in Sicilia e biscotti di San Martino. Vai in Lombardia e c'è il panettono di San Biagio. Ma questi sono i santi o quelli del boss delle torte? Non l'ho capito. Il discorso è che siccome noi, a forza di competere, prendiamo una cosa bella e la sminuiamo. E Dio sapeva che noi ragionavamo così. Infatti non ha fatto nascere Gesù qui in Italia, che era il centro dell'impero romano. No. Ha fatto nascere in Palestina. Perché se nasceva qua sarebbero cambiate tutte le scritture. Secondo le scritture Gesù è stato preso, processato e condannato in una notte e l'indomani scontava la pena. Quindi in Palestina il processo è durato una notte. In Italia il processo era ancora in corso. Gesù moriva di vecchiaia e alla fine del processo condannavano i remaggi. Perché è sia comunitario. Cose che non c'entra niente. Io vengo da una terra Vengo da una terra dove c'è una gara a chi prende più lauree ma nessuno lavora. In Sicilia siamo messi tutti così e spesso uno fa un lavoro che non c'entra niente con la laurea. Infatti la dottoria è dal barbiere e quello mi tagliava i capelli fa si vede contro il lauree e faccio sì. Sei urologo, parrucchiere e veterinario. Perché? Perché hai fatto i capelli a cazzo del cane. La realtà è che voglio dire a tutti quanti di non competete. Io faccio un mestiere rischioso che però fa ridere me e fa ridere chi mi sta intorno e mi fa pure guadagnare bene ed è per questo che faccio lo spacciatore. Grazie. Ti do un piccolo consiglio non richiesto. Non inserire mai in un pezzo comico la frase io sono un comico o io faccio il comico perché? Perché la volta che la gente non ride e ci sono quelli che non ridono per partito preso tu resti sgambettatissimo. Se invece dici io faccio l'attore perché è la categoria di comico rientra nella categoria ti salvi anche la serata storta in cui magari c'è il pubblico che non è esattamente dalla tua. Cosa che credo se continui così ti capiterà raramente perché sei esplosivo. Se poi dici se poi dici io faccio cagare beh parti già in vantaggio Paolo voglio vedere siccome ti sto chiedendo se sì o no voglio vedere il gesto Assolutamente sì Ok Diego? Sì sì Selvaggia? Sì Un via vai di donna un via vai un via vai un via vai una se ne fermasse mai E naturalmente come ci si aspetta da uno come lui porta a casa il risultato Tu sei molto sexy quindi se ti va bene uscire con una che ha 18 anni io ci sto Giurati siate led led quindi luminosi ma non siate infiammabili come Zeppelin led Zeppelin con Enrico Lufaria Grazie a tutti Sono alto un metro e novanta con mio cugino sulle spalle e sono e sarò sempre un artista in continua espansione Piacere Tony Tormento Ballerino di lap dance Ho cominciato a fare questo lavoro per pagarmi gli studi poi alla fine delle elementari l'ho fatta a tempo pieno L'altro giorno una tipa mi fa Tony ti va di fare una vasca in centro io ci ho detto no vai tu io ho già fatto la doccia a casa ho avuto per un po' una relazione su internet con una ragazza americana poi finalmente ci siamo incontrati appena mi ha visto mi fa Tony preferisco l'amore a distanza non è per tirarmela eh ma io da nudo ho un fisico da urlo di Munch per chi fosse interessato all'articolo il mio numero di telefono lo potete trovare al McDonald proprio lì nel panino quello più appetitoso il McTonic sapete cosa c'è nel McTonic? carne tanta carne abbiamo anche l'offerta speciale per le donne di una certa età l'Happy Milf il mio sito internet è www.sevuoiprovarecarne di vero manzo mordimi adesso punto punto è complesso il personaggio cioè va arrotondato va messo ancora io voglio che il comico non mi lascia intendere di essere di sapere di essere bravo e di saper far ridere è un uomo che sfiora il raccapricciante si mette il ridicolo e mi fa ridere sei un po' compiaciuto dell'effetto che susciti però questo può essere anche un valore perché ti prendi qualche rischio e di questo ti va reso onore secondo me se ti prendevi dei tempi un po' più stretti ci stavano altre 3-4 battute forti che modificano la sensazione insomma il sapore che lascia in bocca con le persone avventure sadomaso che diventano un percorso di guerra il sesso come minaccia della propria integrità fisica è di questo che si ride con ghetti e baldieri 30 uomini e una donna e quella donna ero io spaiati e divertenti ma poi nella realtà ma voi state insieme davvero? io c'è prova 10 anni di accademia teatro di prosa drammatica e poi mi ho detto più felice della mia vita con una risata bellissimo i nostri ghetti e baldieri buona sera amici e amiche di www.coppiaperte.com noi siamo la coppia numero 26 e io sono la Valerie ovviamente è un nome di fantasia altrimenti poi a lavoro mi danno fastidio e lui invece è Zonny ovviamente anche questo è un nome di fantasia altrimenti poi a lavoro lo possono dedicare Zonny ma quale Zonny ma se lo sanno tutti ormai che c'è mio marito Baldieri Fabio noi siamo due persone birichine forzeline aperte a tutti sabato ad esempio abbiamo fatto sesso io lui e Marione e il mio marito si è proprio scatenato sembrava un'anguilla si muoveva si contorceva saltava su e giù ma che cosa stavi facendo? nascondeva il culo a Marione a me piace un sacco il sesso in macchina il car sex ma mio marito c'ha paura ma prima devi e allora mi metto sopra di lui ma lui c'ha ancora paura ma prima devi e allora tappezzo tutti i vetri con i giornali ma lui c'ha ancora paura ma prima devi ma che cosa devo fare prima? devi parcheggiare io sono l'amante perfetta soddisfo tutti i desideri mio marito infatti mi rompe sempre per fare un menage a trois con una donna e io per accontentarlo ho chiamato una milf una porzellona ma lui niente appena abbiamo iniziato subito a lamentarsi e te che vedo una messia noi siamo una coppia un po' vistiosetta ultimamente abbiamo scoperto di essere dei cleptomani sessuali ci eccitiamo a rubare nei sexy sop la scorsa settimana abbiamo rubato un vibratore e sapete perché non ci hanno preso? vado a dire bene amici e amiche di www.copiaperte.com il nostro tempo è scaduto e tu ricordati se ti piace il sesso coinvolgente passionale travolgente chiamami se invece sei interessato a un incontro uomo uomo e sei super dotato appena si spegne ti chiamo io grazie è la comicità vera io vi avevo visti già in prima puntata e mi ero divertito Diego sì mi sembra che anche chi era il messaggio di Rocco Diego ha detto sì Paolo qualunque sarà poi l'esito di questa gara che ricordiamo una gara io credo che voi sarete beneficiati da questa vetrina e comunque vi dico sì sì grazie se faccia c'è un terzo si da parte di selvaggia il luogo una mensa i protagonisti un omnivoro e un vegano il dramma può avere inizio otto scamorzi sei pazzerotti tre pazzerotti ma no non stia fuori loro sono sinisi e bugatti in conflitto su un tema che divide più del calcio o del diritto di famiglia il tofu guardi lì che bel tofu lei mangia tofu lei è vegano sì grazie per aver detto una grande verità il tofu fa schifo posso dire grazie l'ha detto lei sono molto molto soddisfatto bravi grazie e adesso giurati siate auto ma non grill per sinisi e bugatti buongiorno buongiorno sempre in ritardo sti autobus vero sì vero pendolare 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 mi scusi lei prende l'autobus tutti i giorni no no è che oggi devo andare a un colloquio di lavoro è disoccupato eh sì ah è meridionale come scusi e sorrida è bello il sud avete il sole il mare di dove di Parma no sono di Bari bellissima Bari eh gli autobus prende è il 37 perché è qua c'è il cartello allora lasci stare quel cartello lì che è sbagliato è lì da dieci anni e non lo cambiano ascolti me 37 va diritto per quella strada rotonda grande sulla destra la prima rotonda piccolina no 37 è qua ah è qui giusto si è appena passato è fortunato a volte non passa neanche disorganizzati vero ma succede anche da voi a Bari sì da noi non passano mai mamma mia però una volta ne ho visti passare due insieme era contento eh no era ubriaco comunque lei è fortunato è fortunato il 37 passa ogni due minuti veramente eh guardi tu hai passato che poi io non sono razzista eh ma sti autobus qua sono pieni di africani che urlano al cellulare ha visto e non si capisce neanche quello che dicono eh oh bello sai in Italia parli italiano beh se sta a parlare con i parenti in Africa senta io se devo telefonare a mia mamma non vado sugli autobus in Kenya giusto? giusto bravo cosa fa? no scusi che devo guardare gli orari ma ho paura che passa l'autobus controllo io grazie passa le 8 e 37 37 no il 37 ma porca non ci arrivo più a sto colloquio dove ha il colloquio? alla Bayer Bayer ma come faccio? a 50 euro si perché? se mi li da me la accompagno io ma qui la macchina? quella lì ma quella è un taxi è il mio che coincidenza andiamo eh si si però prima può darmi i soldi ci mancherebbe l'altro non per lei ma sai in questi tempi meglio non fidarsi dai andiamo ma la macchina è di là si ma la Bayer è quel palazzo azzurro a 50 metri andiamo a piedi dai che la accompagno no 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 ma scusi scusi ma quella è la Rehab si si entra da dietro la Rehab si entra da davanti e Bayer davanti fanno le pastiglie e dietro le supposte complimenti perché il pezzo è bello l'altra volta me ne avevate stupito e oggi avete confermato comicità di situazione bella ricca voi molto ganzi viva Diego a te la parola c'è una bella costruzione nel senso per quello che piace a me potrebbe essere il tutto fatto meglio partite sempre da situazioni di una certa banalità l'altra volta eravate in coda la mensa questa volta siete davanti alla fermata dell'autobus però il tutto si regge su testi molto ben scritti bravi mi avete fatto ridere tenete conto che quando io mi diverto molto faccio faccio così quello che se mi metti un vetrino sotto il naso lo capisci dal fatto che si appanna non solo uno che si sganascia invece voi per due volte mi avete fatto ridere una cosa sui 50 euro ve li do io se togliete la battuta della supposta finale Rocco tu ricordi invece una serata in cui proprio non hai fatto ridere proprio che è andata malissimo si la ricordo ho ancora l'incubo come quelli che sognano la maturità io sogno una serata che ho fatto all'età di anni 17 io suonavo il pianoforte facevo piano bar e una sera mi arriva una scrittura devi presentarti nel tale posto io mi presento nel tale posto col mio pianofortino scassatino elettrico dell'epoca guardo però ai tavoli e sui tavoli c'è scritto benvenuti al grande veglione del carnevale ambrosiano e dico ah c'è il veglione che bello cosa c'è ci sei tu e io scopro di essere il grande veglione del carnevale ambrosiano per due pullman di romani che venivano a fare il carnevale ambrosiano a Milano e ho passato una serata terrificante perché qualsiasi cosa che io facessi suscitava malanimo a un certo punto il proprietario mi ha detto racconta una barzelletta e io ho raccontato una barzelletta che Diego conosce bene e che non riracconterò a questo punto aspetta non lo posso ed è il busto di gesto di Giulio Cesare allora facciamo così ce la racconti noi intanto andiamo in pausa ci vediamo fra poco com'era un grande regista e sceneggiatore che da 40 anni scrive pagine importanti del cinema italiano è un onore per me presentare Pupi Avati grazie 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 come come questa questa cosa che ha preparato Diego no no io non l'ho appassionato e che me l'aveva promessa al telefono devo dire tu hai contribuito a far sì che venisse devo dire che essendo così esagerata mi piace moltissimo perché ormai io vivo la mia età solo di esagerazioni e solo di complimenti e anche se non sono sinceri chi se ne frega esagerazione che corrisponde a verità mi fanno piacere solo le bugie è impegno è impegno anche molto impegno perché poi adesso sembra così ma per arrivare a fare questo pezzo di tre minuti Enrico Zambianchi 37 anni da Forlimpopoli sceglie di esordire con un'idea per nulla scontata come la morte passo io così faccio un giro unico anche se poi il gelo della grande falciatrice lascia il posto al freddo regolabile di un frigorifero e vota frigorifero perché tutti possono fare una cassata ma pochi mantenerla nel tempo grazie l'idea di uccidere la morte è stata interessante e molto coraggiosa Enrico la morte ha un po' più di purtroppo di peso nella nostra vita per me ce l'ha anche il frigorifero giurati siate pitagorici ma non costruite quadrati sulle ipotenuse per Enrico Zambianchi Zambianchi Casadei Ermete c'è? aspettiamo adesso quando arriva che non gli diciate in bocca al lupo che dopo lui dice crepi il lupo mi tocca portare dietro anche il lupo con questa storia dei lupi crepi il lupo c'ho un serraglio di là eh c'ho un serraglio pieno di lupi e di capre con una panca spezzata in mezzo alla schiena io c'ho eh eh no perché voglio dire adesso quando arriva ci diamo un taglio subito e non se ne parli più che questa taglia eh questa è affilata questa non è mica come quelle falci che vanno adesso quelle falci made in China che non tagliano avete mai visto un funerale di un cinese? per forza non tagliano allora visto che qui stasera c'è questo bel pubblico ve lo dico una volta per tutte così dopo quando è il momento non perdiamo troppo tempo allora per chi si vorrà rivedere al momento la sua vita passare davanti come in un film e vi portate dietro una chiavetta USB ultimo spettacolo biografico ve la scarico ve la guardate quando vi pare che non abbiamo tempo da perdere il telefonino lo potete lasciare di qua di là dal tunnel non prende non c'è campo c'è campo santo dopo non c'è campo mi suona il cellulare aspetta mi suona il cellulare ah no un messaggio è Carunte Carunte il traghettatore dell'Ade il traghettatore dell'Ade l'Ade il fiume che porta l'Ade dal greco Ades 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 che quando la gente lo vede dice uehi quando tocca a me Ades adesso lo chiamiamo sentiamo dov'è Carunte ciao si sei già lì nel naviglio ah va bene no 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 io sono già arrivato si sto aspettando ha fatto la battuta sei ignorante ho detto non farmi aspettare una vita se sei sei ma no va bene dai ascolta fai così no va bene si vai in un barezzo va bene mi aspetti lì come ti prendi un martini no che martini abbiamo casa dei prima allora vabbè allora fatti fare uno scontrino che dopo scherichiamo eh sì ci vediamo si vede che ha una preparazione che c'è una ricerca dietro e che c'è sicuramente un talento comico questo è un personaggio che tu devi portare avanti che non devi abbandonare perché è veramente la morte tua è veramente molto comico e ha scritto anche un bellissimo testo molti rallegramenti mi sei vissuto molto grazie Diego sì o no provo a dire no allora Diego dice di no Paolo tu che dici eh ma veramente cioè veramente no è quello che diceva anch'io siamo a ognuno deve essere dai ragazzi anch'io anch'io onesto con sono due no selvaggia per te è un sì o no mi verrebbe una cosa che comincia con morte ma è morto sì allora è un sì sentito di selvaggia e credo anche per far prendere un applauso che vado a Luca Deglio nei tanti il nostro Pupi Amati diventerà determinante per il tuo passaggio al voto io sono scandalizzato dai due no sia di Ruffini che di Diego veramente anch'io non le capisco allora questo è il concorso dei comici o di che cosa lui può andare a fare a raccontare una storia infinita perché la morte può raccontare mille aneddoti diventare uno dei personaggi di questi di queste trasmissioni televisive di grandissimo successo ma questo sicuramente ma questo non è un casting per una trasmissione televisiva di comici quello lui lo può fare benissimo da domani ma potrebbe benissimo anche diventare un attore di un film comico e io su questo ho un dubbio io su questo ho un dubbio allora io ti dico togliti il dubbio perché nella mia esperienza è infinitamente superiore alla tua ti dico che lui non deve avere nessun dubbio quindi è un sì no ma lui deve cambiare il noi sì non è che io è un mio sì maestro lui deve cambiare il noi sì ma io cambio 4 sì tanto 4 sì ma io dopo 4 sì scusami ma dopo aver preso dopo aver preso anche un calziatore da pupi avati sono al top sono al top maestro io ho iniziato nei villaggi turistici a 19 anni battute demenziali e non sens comici in punta di cunele per il ferrarese Paolo Franceschini i peruviani solitamente hanno poca barba perché girano con lama benissimo io ho visto un'esibizione un po' troppo simile alla prima faccio anche altre cose quindi è per questo che dico se mi mandate in finale vi faccio vedere sono entusiasta a me piace tantissimo nessun dubbio invece su come investirebbe il premio finale investo investiti intanto facciamo investiamo investiti giurati uscite dalla Tana e siate liberi Tana liberi tutti per Paolo Franceschini signori e signori buonasera questa sera ho portato il signor Giorgio qua con me Giorgio scusate tranquillo no no Giorgio Giorgio c'è un dottore della Trudi in sala Giorgio Giorgio ok si è ripreso fortunatamente bene buonasera sei tranquillo adesso si ok saluta il pubblico ecco devo dire che sta bene ok perfettamente adesso si è ripreso questa sera proprio solo apposta per la finale abbiamo deciso di cosa c'è eh veramente sicuro scusate che mi ha detto che gli è venuta un po' di bronchite è rimasto anche senza voce non ci credo non farglielo sentire scusate ma ti sei pulito su di me ah pensavo allora mi stai prendendo in giro ok Giorgio allora non possiamo più sicuro davvero boh allora scusate che ha detto che al momento si sta concentrando guardate il potere del velcro incredibile è molto bravo a fare le imitazioni e quindi questa sera voleva fare le imitazioni per voi pubblico iniziamo dai cantanti italiani Piero Pelù dei Litfiba vai bravo Vasco Rossi Vasco Rossi eeeh giovanotti fu 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 molto forte ah i giudici se li puoi fare ma penso di sì Paolo Ruffini de Diego Abbattantuono so uno strano aniollo Selvaggia Lucarelli Giorgio secondo me questa sera hai buttato una grande occasione ti preferivo con l'Ukulele mi ha stupito piacevolmente ma so sono rimasto a metà strada come solito il fatto che uno si vesta così e si presenti così crea già una distanza abissale un pregiudizio di partenza per cui far ridere diventa molto complicato però nello stesso tempo fa anche una tenerezza infinita Selvaggia dovrebbe essere un no perché Paolo per te un sì un no per te un doppio sì stavolta io devo dire di no se arriva un sì da parte di Pupi allora tu arriverai al voto io gli voglio dare sì il mio candidato al ripescaggio è Davide D'Urso ripescato per la finale da Rocco Tanica Davide D'Urso 18 anni ma navigatissimo comico ma anche mago porta in scena in due soluzioni drammi e dilemmi della maggiore età io porn non sapevo nemmeno cosa fosse allora sono tornato a casa di corsa l'ho cercato su internet al volo e ora non ci vedo più dalla fame hai un coraggio ed una presenza scenica che ce n'avessero tanti quarantenni come la tua per cui secondo me sono felicissimo di essere arrivato fino qua mi sono divertito ed è una cosa fondamentale questa sera non rientrare oltre le undici e mezza perché ti lascia fuori di casa questa è la prima cosa Davide D'Urso ho 18 anni ma non sono credibile ho una faccia da eterno bambino tant'è che la prima volta che mi hanno fermato i carabinieri dopo un party mi hanno fatto il palloncino ma siccome piangevo mi hanno dato anche lo zucchero filato i gettoni per gli autoscopi però una cosa è certa a 18 anni ti cambia la vita e la mia potrebbe cambiare qui su questo palco caso A vinco eccezionale veramente fighissimo e con 100.000 euro mi rifaccio il look un outfit da hipster con extension red una larger penis piercing e tattoo e poi mi rifaccio anche un bel corso d'inglese per capire che cacchio sto dicendo ma caso B no caso B non vinco non vinco eccezionale veramente allora vabbè non mi perdo d'animo ho 18 anni e ritorno in questi studi qui a Milano l'anno prossimo ma niente quello dopo niente quello dopo niente quello dopo niente finché non mi nota un produttore che mi guarda dritto negli occhi e mi dice d'urso so quattro anni che la trasmissione la registrano a Roma imbecille caso C caso C guardo la finalissima da casa e mi accorgo che non mandano in onda il mio pezzo mi tagliano allora per consolarmi mi chiudo in bagno e mi dedico a quella cosa per la quale le ragazze non mi dicono ti amo e mi ha pure fatto calare la vista negli ultimi anni i libri di magia io adoro la magia è una cosa fighissima no scusate scusate tu ridi perché sei una bella donna a te te l'hanno detto ti amo scusa a me non me l'hanno detto come ti chiami Laura ho deciso questa sera tu mi dirai ti amo vieni qui sul palco Laura facciamo un applauso a Laura guarda Laura molto semplicemente dovrai scegliere una carta quella che vuoi e dobbiamo renderla unica al mondo quindi questo quattro di cuori lo andremo a firmare quindi metti pure sul quattro di cuori insomma la firma nome cognome numero di telefono scherzo scherzo ce l'ho già ok dobbiamo mettere questo quattro di cuori così in un posto in bella vista quindi prendiamo il quattro di cuori lo pieghiamo a metà e tra i denti Laura tieni la carta perfetto faccio la stessa cosa anch'io prendo la prima carta che mi capita e ora Laura guarda il lasso di cuori adesso siccome io già ti amo io scrivo ti amo ti amo firmato Davide Davide ecco fatto e adesso anch'io vado a mettere questa carta tra i miei denti Laura e ora tutto il pubblico dovrà dire la formula magica occhio di mago cuore di fata tutti insieme occhio di mago cuore di fata o viene una magia o viene una cagata speriamo molto lentamente prendo la carta che hai tre denti e ho il quattro di cuori firmato da Laura Laura apri la carta che hai tre denti ha il mio asso di cuori con su scritto cosa c'è scritto Laura ti amo Davide grazie faccio fatica a immaginare che tu sia il vincitore di questo concorso però aspetto di sentire cosa ne pensano Paolo tu che pensi io investirei su di te perché sei bravo ti amo grazie tu fai il muratore giusto? ma dove? racconta a Carlo adesso lo faccio in Svizzera Svizzero per lavoro e italiano per passione Enzo Emanuello 48 anni calabrese nella vita fa il muratore e gli viene talmente bene da farlo anche sul palco per me la sicurezza nei cantieri è tutto e per essere sicuro che nei miei cantieri non succeda nulla io manco ci vado al lavoro aspetti l'altra volta ti ho trovato più brillante riuscirà a fare della comicità una vera professione o dovrà continuare ad andare in Svizzera dove peraltro non li trovo gli Svizzeri in Svizzera non esistono l'unima cosa che mi ha detto l'edicolante Svizzero metto un cazzo d'oclodone per tutto Enzo Emanuello io pensavo che per me questo fosse un brutto periodo invece mi sono dovuto ricredere io nella mia vita ho sempre giocato al superenalotto l'ottocrate vinci videopoker e quant'altro non ho mai mai vinto nulla io ultimamente lavoro in una ditta Svizzera la mia ditta i capi si sono riuniti hanno fatto un bilancio di com'era la situazione e siccome loro sono Svizzeri e sono precisi hanno tirato fuori che c'era l'esubro di una persona siccome noi siamo 65 operai 65 operai tutti validi per non fare discriminazione hanno deciso di fare una lotteria io non avevo mai vinto nulla nella mia vita ho vinto io un'emozione fortissima che non avevo mai provato tant'è vero che gli ho detto ai miei colleghi ragazzi io non ho mai vinto nulla nella mia vita e non vorrei iniziare oggi proprio io il premio che ho vinto io lo voglio regalare a uno di voi e tutti no per me proprio no te lo sei meritato tu te lo devi tenere per me che glielo l'ho raccontata a mia moglie anche lei emozionata a pianto e ho detto oggi da adesso in poi saremo sempre assieme di più troppo felice che poi diciamolo è il sogno di tutti noi chi nella nostra vita non ha mai sognato vinco la lotteria e non lavoro più eh io se avessi vinto la lotteria che volevate vincere voi tutti io comunque lo stesso ci sarei andato al lavoro perché io sono uno che d'origine italo-siciliana sono proprio italo-siciliano e ho sfatato quella che era la regola che vingeva nel mio quartiere che era lavoro non ce n'è e si cerca ma se non ce ne trova ma se ringrazia addio e io lo stesso sono venuto qua e adesso non posso lavorare più vi ringrazio lui ha fatto un pezzo sulla base di una sola battuta ma talmente importante che ha reso determinante tutto il resto bravissimo bene allora Paolo ho un talento spontaneo mi sa che dopo eccezionale veramente devi lavorare parecchio lavorerai parecchio Marco Donderini attore comico improvvisatore showman truffe Davide Dalfiume in inglese from river tedesco von fluss aggiungiamo che i due iniziano a collaborare artisticamente per caso e sono la prova che spesso nella comicità come nell'amore sono i diversi ad attrarsi una coppia totalmente improbabile a me quello che mi fa impazzire è che non c'entrano niente dovunque vado io trovo sempre quello lì che non è del posto che mi è venuta la curiosità ma di che posto è ma cosa c'entra è finito guarda è una volta in cero noi andiamo avanti lei è finto vero tonto applicandomi può darsi che delle volte rimanga un po' impigliato ma dove Dondarini è dal fiume buongiorno posso entrare è già dentro mi dica volevo cambiare il look sono a Milano nella città della moda sarà destino oggi la prima persona che ho incontrato era un uomo dico piacere Davide della fiume lui mi fa piacere Giorgio Armani dico vè ho una mutanda che si chiama così è capitato nel posto giusto guardi che robina che c'ho io guardi guardi che roba guardi questo maglioncino qua no guardi che roba guardi solo il colore colore catarro quest'anno va al catarro lo dico senta senta il tessuto questa è l'anas gavinas è l'anas lanata l'anas lanata è come quelli che prendono un caffè decaffeinato se non vuoi il caffè prendi qualcos'altro l'altro giorno c'è una confusione sono allato al ristorante ho litigato col cameriere dico cosa mette l'olio extravergine sugli spaghetti e la puttanesca ma cosa c'entra senta questo tessuto lo senta lo sente lo sente si questo quando piove sa cosa fa è impermeabile si bagna è ignifugo è ignifugo se lo provi è inutile stare qua bisogna provarli i vestiti vanno provati o glielo dico quest'oggi per farli capire l'hanno provato in venti si sente beh in venti non l'hanno preso lo vuol dare a me scusi ma no se lo provi se lo provi guardi questi vanno provati perché guardi come le sto bene non è neanche la mia postura vale che meraviglia mi dica le posizioni dove sto bene che le memorizzo vada va allora io ne vedo di gente provare dei maglioni mi tolgo una curiosità lei fa il fotomodello ho dei progetti eh si vede guardi guardi le sta bene anche un po' rincagnatino vabbè ma anche un po' rincagnatino andrebbe un po' sblusatino sotto eh adesso io ci son dentro faccio più fatica vabbè insomma cosa facciamo lo prendiamo? allora lo prende allora perché lei perché lei le faccio bene 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 mi vergogna dirlo lo dico? sì 240 euro mi fa lo scontrino ho detto bene 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 eh black 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 è un doberman? chi è un doberman? chi? cosa? morde? no ho detto le faccio bene 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 ha un eccesso ma che eccesso? come paga piuttosto? ho la carta di credito cash 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 sa perché non viene a cambiargli nome? ma no si confonde si confonde non è possibile voglio comprare una coppia di cani e chiamarli cash black eh Paolo beh sono sono gazzissimi cioè sono proprio una coppia ripeto totalmente improbabile io non non li assemblerei mai cioè insieme hanno un'alchimia perfetta è il migliore che li unisce è il migliore che li unisce allora pupi volevo farti una domanda tu sei un regista che ha esplorato diversi generi no? dalla comicità all'horror trovi che ci sia qualche similitudine? fratechi sono soddisfatto per lui la famiglia è sacra difficile infatti vedere Andrea Fratellini ventriloquo con un passato da steward di volo senza la compagnia di un parente è andata bene è andata bene sì perché sono tutto bravo prima lo scorbutico zio Tore poi addirittura nonno felice nonostante l'età e corro ancora dietro alle donne ma davvero? sì ma non mi ricordo il perché nonno dai è un umorismo garbato ma internazionale io penso che a Las Vegas avesse un enorme successo però mi piaceva di più l'irriverenza di zio Tore di questa simpatica malinconia ironia di nonno felice nonno due mani e una sai dov'è? no lo so lo so giurati non andate via col vento ma cogliete l'attimo fuggente perché arriva Andrea Fratellini no no andiamo 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 no 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 ancora no no buonasera buonasera non mi da non mi da non mi da dai zio ti prego è la finale non do io c'è ancora lui dai Gabriele sei grutto dai sta ridendo di me sta ridendo di me zio tranquillo vuol dire che piaci ridi ridi se vengo là se vai là che fai che è più alto di te ti tolgo la nicissia sul sesgo ti è dai zio per favore dai calmati non mi da dai zio tu senza di me non parleresti ah sì lui senza di me non mangerete diteglielo a quest'idiota eh donna castagna dai zio ma io non capisco perché tu sei sempre agitato sempre ehm così sempre arrabbiato perché perché cerco la mia donna ideale che cosa cerchi in una donna cosa ti piace in una donna le mani ah sulle tette no zio eh no selvaggia no selvaggia adottami sono trascagile guarda selvaggia ho il movimento sexy yeah dai smettila chattiamo chattiamo zio che hai il mouse ti faccia toccare il mouse basta zio hai il cordless no cordless lungless lungless tranquilla zio smettila sei sposato cerca di essere più più elegante più romantico sono scorsato sì sei sposato non me lo ricordare con la zia è vecchia no è vecchia è grutta non è brutta e non è vecchia sì non si dice così di una donna come si dice mia moglie grutta no è talmente grutta che se esce col cane la gente si ferma e accarezza lei non il cane eh guarda cioè tu stai dicendo che sembra un cane sì un aschi un aschi una schifezza no zio non si dice di una donna che sia brutta e che sia vecchia e come si dice si dice che quella donna non è bella ma no è un tipo un tipo di cesso no sì no e non si dice vecchia di una donna come dire le donne invecchiano come il vino cioè sono sempre più buone mia moglie invecchia con il latte è acida è fastidiosa zio i vicini di casa la chiamano come la chiamano Equitalia anche tu la chiami così no come la chiami Tanga perché mi sta sul culo zio zio eh da quanto tempo siete sposati da 35 anni ah 35 anni qual è stato l'anno più bello l'anno che mi riconosce zio zio tu per essere felice con lei sai cosa devi prendere le distanze no no fiori eh fiori come le hai mai portato dei fiori ma no è ancora in vita ma è scemo zio se torni a casa e non trovi la zia sai che significa che Dio esiste yeah scusate scusate eh mua 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 grazie per ora dico veramente eccezionale poi vediamo se stai eccezionale veramente selvaggia zio Toro è tornato solo per te allora tu riesci a rendere moderno qualcosa che è vecchio parlo di comicità eh zio Toro questo è un grande pregio però poi mi domando che tipo di futuro tu possa avere perché al di là nessuno al di là del palco il cabaret non vedo tanti sbocchi professionali dovreste partecipare a forse dei concorsi per ventrilochi mondiali nel mondo tu potresti essere il più bravo ventriloquo del mondo le battute sono molto carine ma la fisicità di tuo zio è assolutamente strepitosa dici che devo tornare un'altra volta madonna ragazzi ma allora qua c'è dell'accanimento contro i pigri interpretare un pigro ma correre con grande energia verso la finale è quello che capita a Giovanni D'Angella 35 anni che bissa in semifinale i consensi della prima prova sei stato probabilmente il concorrente meno pigro di tutti quelli che ho visto colloquio di lavoro io al tipo gliel'ho detto subito che ero pigro mi fa sì ma si ricordi che in questo ufficio iniziamo alle 8 detto non c'è problema va benissimo iniziate quando volete io sono anche un discreto monologhista quindi potrei stravolgere tutto un personaggio a mio avviso originale divertente complesso interessante Giovanni D'Angella la giornata è iniziata nel peggiore dei modi per un vero pigro come me mia madre è piombata in camera mia sveglia oh mamma ma che ore sono se non le 8 e perché è mai svegliato così presto perché se no la cena si raffredda mia madre ce l'ha sta cosa entra in camera mia spalanca la finestra forza pigrone anche il sole si sveglia tutti i giorni da miliardi di anni e sorride sempre e per forza sorride il sole non fa un cazzo la terra che gira allora siccome l'ultima puntata vi ho portato il curriculum che mia madre mi ha obbligato ce l'ho qui nel portafogli e adesso ce l'ho che serata di merda oh ma porca mi sei eh no non posso fare sforzi ragazzi mi è anche uscita l'ernia ieri ho sbadigliato all'improvviso adesso c'ho pure mio padre che mi sta addosso Giovanni sei giovane io alla tua età spaccavo il culo ai passeri tu senti papi se me lo acchiappi tu il passero no non è l'ernia la gamba si è addormentata la gamba beato lei ti raggiungo subito mi è stato tutta la settimana addosso così ma fatti almeno la domanda di disoccupazione ragazzi io ci ho provato per fare la domanda devi andare all'imps ritirare il modulo tornare a casa compilare tutti i dati Anna tornare salga al secondo piano mi dispiace la collega la cosa è che bella mia guarda che se avevo voglia di fare tutta sta fatica andavo a lavorare la gente ragazzi la verità la verità è che se noi giovani siamo a casa senza lavoro e grazie a questa burocrazia e grazie a questa a questa politica e grazie a questa classe dirigente sì signori grazie a voi e grazie ma veramente di cuore continuate così fermi tutti qua devo risolvere sto fatto del portafoglio vabbè dai vado a fare la denuncia di smarrimento non ho nessun dubbio sul tuo futuro e sul fatto che tu riesca a fare questo lavoro bene dopo 20 secondi aveva già preso un applauso entrano tutte le battute ho visto che è capace anche di interpretare altri personaggi quindi c'è anche l'attorialità della sua parte insomma in effetti potrebbe essere uno di quelli che fa a caso nostro la parola selvaggia non so per rimanere in tema non mi hai fatto sbadigliare mai eh no molto creativo molto divertente bravo grazie 25 anni io inizio 17 anni in coppia allora se io fossi un produttore oggi scommetterei su questo ragazzo questo ragazzo è Roberto Lipari 25 anni da Palermo grandi capacità di scrittura ottima gestione del palco e un talento che affiora e convince ma perché abbiamo castrato il gatto perché il volevamo bene poi una volta mia madre entrò nella stanza fa lo sai che ti voglio bene ma chi ti conosce veramente molto bravo molto bravo in tutto a me quello che è piaciuto del tuo pezzo è che non c'era una cosa volgare è straordinario mi fai ridere mi fai pensare e non me ne fai accorgere vuol dire che tu mi incanti in un momento e ci hai regalato tre minuti bellissimi giurati siate le ali senza essere fausti per Roberto Lipari chiamate l'ambulanza leggerò una lettera contro l'ordine perché io amo il disordine mia madre dice che se sei disordinato non trovi le cose e fai brutta figura invece ho scritto ragazzi perché mia madre dice che se non trovi le cose ti innervosisce perché trovi una a posto di un'altra e invece la non è questo perché poi cominci a balbettare quando non le trovi e invece non è vero che poi dice se non le trovi comincia a dire le parolacce e invece lo affanculo vado a braccio a me dell'ordine non me ne frega niente la madre è ordinatissima lei di base ordina tu poi dici mamma me la sistemi questa cosa non è che te la sistemi te la nasconde a distanza di un mese mamma dove l'hai messa l'ho sistemata così bene che non la trovo più è un vizio che hanno tutte le mamme pure la mamma delle mamme la madonna una volta Gesù gli ha detto mamma me lo sistemi il santo graal e infatti va a ciovolo che ancora lo c'è io diamo l'ordine alle cose quando dobbiamo dare un ordine alla logica viviamo senza ordine logico fin da bambine elementari i problemi di logica matematica non hanno un ordine logico c'è sempre questa mamma che va al mercato compra 4 mele torna a casa ne cadono 3 tu devi sapere quante mele sono rimaste una volta andata al mercato ha comprato 20 mele mentre tornava a casa ne sono cadute 16 e tu dovevi sapere ma dico io ma non te ne accorgi 16 mele a terra una volta melone angure cocomero poi a casa a Braccina Corta le feste di compriano compra 8 caramelle per 10 bambini se i bambini si mangiano 7 quinti di caramello 8 settimo di pane 9 decimo di torta ma compri un caramello e pezzi di tirche che te cosa il problema è che sono dei traumi infatti pure quando crescono molti non hanno un ordine logico nel loro lavoro per esempio i dentisti non capisco perché il dentista prima ti paralizza la bocca poi ti mette il gancio poi l'aspiratore e dopo ti fa le domande ma come minchia ti risponde il problema è chi non ha ordine logico vuole dare l'ordine a tutto per esempio anche i sentimenti con la frase tipica che qual è il tuo uomo ideale non esiste infatti le risposte sono confuse il mio uomo ideale deve essere sicuro ma indeciso calmo ma aggressivo triste ma allegro uno schizofrenico questo non sa il cazzo che fare prima in realtà è che nella vita ci sono cose che hanno un ordine e altre che non ce l'hanno e questo hanno capito gli artisti gli artisti vedono oltre l'ordinario vedono nello straordinario è così che un pittore da un paesaggio vede un quadro uno scultore da una pietra vede una statua è un comico da una gaffa iniziale basta mettere tutto nell'ordine giusto e riesce sempre a strappare un sorriso ha una grandissima naturalezza si diverte moltissimo a farlo ed è contagioso in questo suo divertimento a divertirsi penso che tu sia portato è bello hai avuto una bella idea il finale con il sorriso insomma c'è roba mi viene voglia di sapere qual è il pezzo che faresti dopo questo brevaggia ti incuriosisce tanto Roberto allora io lo trovo bravissimo proprio bravissimo e l'unica cosa secondo me salti troppo da un argomento all'altro cioè mi piacerebbe che tu mi allargassi un po' il discorso e non passassi subito ad un altro in maniera così frenetica detto ciò questo è il lavoro tuo mi verrebbe da dire che è già più bravo di me cioè mi verrebbe da dirlo anche a me anche a me è veramente ecco quindi secondo me lui è eccezionale veramente anche tanti altri sei esposto sei esposto già allora quindi non mi vergogno di essere entusiasta Diego quindi è un sì o un no? ma prima di dire il sì vorrei dire che io sono orgoglioso che questa sia la finale perché veramente è una serata dove sono tutti bravi io raramente ho trovato ho visto tante tante trasmissioni comiche con comici su tutte le reti al sud al nord al centro a metà la qualità di stasera secondo me è veramente molto alta e lui fa parte egregiamente di questo gruppo quindi per me è un sì se dovessi mai andare in finale vediamo domani mattina che cosa ho sognato si fa strada a colpi di sogni Francesco D'Antonio poco più che trentenne salernitano libraio part time e sognando può capitare che a me mi è apparsa la madonna di spalle che a un certo punto si gira stupita tu chi sei c'era sorpresa di vedermi c'era io mi era apparsa la madonna capito? e fu così che Francesco apparve anche alla nostra giuria due puntate nel segno della continuità onirica ma cos'è in fondo a spingerlo verso il sogno? ha la voglia di fare qualcosa che vada sopra quello che già vediamo per me è una figata va bene perché ha trovato un mondo ha trovato il suo mondo Francesco D'Antonio la mia fidanzata mi ha lasciato perché non sopportava l'idea di avermi tradito con un altro che poi ci resto male io lo so che l'amore è chimica voglio dire hanno scoperto che anche i cani si innamorano è tutto merito della dopamina che è un neurotrasmettitore come il nostro uguale quindi pure voi se sentite il cuore che batte forte la pressione sanguigna comenta allora vuol dire che siete dei cani no? è chimica voglio dire è il bromuro che reagisce col viagre e diventa ioduro per questo preferisco sognare no? ma da sempre da quando ero piccolino cioè io già sognavo la pace nell'utero per dire e mi piace sognare pure adesso tutto rispetto per voi però voi non esistete voi siete solamente una mia proiezione onirica certo non è che faccio sempre dei besogni una volta ho sognato che mi moriva il mio pisciolino rosso perché volevo insegnargli a nuotare nella frittura di pesce ricordo ancora il funerale però però a volte a volte faccio dei sogni belli c'è una volta ho sognato di essere in mezzo agli artisti c'era Monet con i suoi puntini sulle tele c'era Lucio Fontana con i suoi tagli sulle tele c'era Piero Manzoni con la sua merda d'artista nei barattoli poi c'erano artisti di merda che mangiavano nei barattoli vabbè quella era l'isola dei famosi che ho lasciato la lesione accesa e mi sveglio in questo mondo paradossale voglio dire è strano vado all'ospedale un dottore laureato alla vista di una cicatrice sul braccio mi chiede ti sei tagliato? no mi ha fatto l'autografo a Lucio Fontana vai al supermercato al supermercato c'è troppa scelta vai in difficoltà voglio comprare fagioli 2000 tipi di fagioli fagioli di tutti i tipi da seme di fagioli al borlotto fino alla scorregge già imbarato cioè è complicato questa realtà c'è qualcosa che a me non mi fa più ridere in questa cosa qua è una generazione che boh cioè i nostri nonni hanno combattuto la seconda guerra mondiale e noi in cambio gli programmiamo il digitale del resto per guardare l'isola dei famosi e allora io preferisco la merda d'artista di Piero Manzoni almeno lì potrebbe nascere qualcosa di Andrè lo cantava dai diamanti non nasce niente dall'età mi nascono i fiori però nessuno poteva immaginarsi il contrario che da una generazione di figli di fiori nascesse una generazione di figli di merda è nemmeno un barattolo d'artista in cui sta secondo me è una bella performance di una persona intelligente che avrà un grande futuro in questo ambito tu fai due tre battute che sono nettamente superiori a quelle della media degli altri comici per me per il mio gusto personale Paolo lui ha la capacità di non ostentare la cultura ma utilizzarla per far ridere tutti ed è una dote straordinaria condivido l'apprezzamento straordinario nei riguardi del suo approccio di come lui racconta di come lui parla di sé di come riesce a intimizzare la comunicazione che è il modo più efficace quello che gli americani chiamano l'underacting la sottorecitazione qualche perplessità sul testo invece io ce l'avrei comunque al momento lo trovo anch'io uno dei migliori fra quelli che sono saliti su questo palco bene un happening danzante per Valentina Ghetti e Fabio Baldieri sul palco una coppia Sadomaso incline troppo incline agli incidenti domestici fare un menage a toi con una donna una porzellona ma lui niente appena abbiamo iniziato subito a lamentarsi io vi avevo visti già in prima puntata e mi ero divertito e oggi ho avuto la conferma e ormai sono un classico loro è un classico in tutti i sensi la loro arma una grande credibilità nonostante nella realtà ma non vada non me lada Ghetti e Baldieri buonasera amici e amiche di www.coppiaperte.com noi siamo la coppia numero 26 e io sono la Valerie chiaramente un nome di fantasia altrimenti a lavoro non mi lasciano in pace e lui invece è Johnny l'uomo senza vergogna l'uomo senza identità l'uomo con la maschera signori e signori mio marito Baldieri Fabio io sono una vera burlona quando andiamo alle feste dei nostri amici scambisti a me piace un sacco fare delle sorprese ieri lo volevo far uscire dalla torta ma lui patacca si è fatto bacchiare subito e te credo è una gossada per carnevale siamo andati ad un'orgia in maschera ed io zenio ho fatto due vestiti da supereroi io da wonder woman e lui lo ha vestito da uomo invisibile ma anche lì ma è una gioia non sei mica divertito ma qual è invisibile? non c'ero il mio Johnny il mio Johnny a volte mi manca soffre di oculazione precoce mio amore vinci chi fugge domenica volevo fare una passia d'amore al mio sfrugolino sesso allo stadio e allora durante la partita l'ho preso e lui niente l'ho toccato e lui niente l'ho spogliato e lui niente ma che cosa stavi facendo di così misterioso? l'arbitro! la nostra posizione per fare sesso preferita il missionario io sotto e lui il monzambico coi poveri noi c'abbiamo una vera passione il cinema sexy da amatori ovviamente e allora abbiamo fatto dei filmini con dei nostri amici tutti i maschi per Zonni Zonni davanti dietro tutti quanti la spada nella rozza e la rozza e Zonni ma sorbole ma si può sapere perché hai fatto così poche scene? e c'ho un culo solo! bene amici e amiche di www.coppiaperte.com il nostro tempo è scaduto e tu ricordati se ti piace il sesso coinvolgente passionale travolgente chiamami e voi maschioni super dotati interessati al sesso di gruppo ricordate che c'ho un culo solo! perché le battute sono strepitose come le recitano e lui è pazzesco lui è lui è è qualcosa è qualcosa veramente ma al di là di ogni immaginazione perché temo che poi delle coppie così ci siano quando il cabarettista esce e tu dici no mi ricordo quando ero ragazzo vedevo grandi cabarettisti e quando uscivano la gente rimaneva lì veramente con la colina in bocca e voi siete così Paolo tu di Ghetti e Baldieri cosa pensi? ma io andrò a letto con l'idea che c'ha un culo solo no 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 ma che c'è nel senso che beh no devo dire credo che si sia visto insomma sono eccezionati no che sono fantastici io li trovo veramente eccezionali io ho il grande rimpianto di non aver mai potuto usare la frusta con voi perché siete troppo bravi troppo bravi mi dispiace non cambiate canale a fra poco e dovete sapere che le abitudini degli italiani sono diverse da quelle delle italiane due donne e un uomo quasi una mucchiata comica per Rino Ceronte all'anagrafe Umberto Abbati insieme a Cristina Eclizia la sua forza sta nel cast hanno proposto e riproposto lo schema dell'intervista doppia a due ipotetici italiani medi 25 anni di carriera posso fare altre cose efficaci cosa ti ha chiesto l'ultimo uomo che ti ha fermato l'amicizia su Facebook patente e libretto le battute sono veramente tante e raramente così tante battute funzionano più o meno tutte cioè sei uno generoso complimenti bravo e allora giurati siate cocchi ma non bacilli per Rino Ceronte e Cristina Eclizia è il momento del sondaggio peso corporeo in kilogrammi 51 80 circa più precisamente 51 e mezzo 88 animale che ti fa festa quando sei a tavola cane verme solitario perché non è piaciuta la tua marmellata ho messo troppo zucchero non ho tolto i noccioli che marmellata era di fragole di pesche a che punto sei con gli studi mi mancano quattro esami alla tesi mi mancano cinque anni a ragioneria cosa temi dopo una puzzetta il cattivo odore la scossa di assestamento amore e sesso unire o scindere uniti scissi come si dice scissi non era una risposta facile scissi passato remoto del verbo cuocere cossi 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 e scissi principessa austriaca famosa nel cinema sissi sissi e scissi quando si è lasciati per un po' si rimane abbattuti scossi e poi scissi come ricordi l'arrivo del sesso nella tua vita l'alba di un nuovo mondo lo sbarco in normandia cosa metti sul corpo per giochi erotici nutella soffritto coi funghi cosa ti piace trovare i punti erogeni i funghi ridete uniti non scissili per piacere durante il coito cosa vorresti vorrei sentirlo di più che mi sentisse almeno un po' sentisse in che senso vorrei percepisse la presenza che percepisse almeno un po' di cosa ti accontenteresti un po' di calore che percepisse cosa ti accadde in passato diedi calore percepì alla fine cosa dici che bello almeno un po' hai percepito nell'intimità come chiami il tuo partner scoiattolo gattina come si chiama in realtà tommaso fuffi come è meglio arrivare al piacere insieme scissi mi sono fatto una domanda cioè la comicità può essere matematica e beh in questo caso la risposta è sì cioè lui è un chirurgo della battuta l'ho trovato molto divertente soprattutto lui che mi sembra che sia poi quello che immagina le storie le battute i dialoghi c'è una seconda dimensione nella quale si sta trovando anche adesso che non è qua e questo lo rende lo rende leggero perché un uomo si mette a letto e si sveglia la mattina così come si è messo a letto le donne durante la notte si deteriorano maschi contro femmine un eterno ritorno che rivive e sfavilla nelle parole di Nino Taranto comico di lungo corso e dalle prestazioni certificate le donne riescono a vedere la polvere sul comodino io certe volte manco il comodino femmine dispettose e donne tormento ma tra queste a volte c'è chi riesce a riconoscere i meriti del maschio ha bloccato il pubblico mentre faceva l'applauso tu hai detto boni che non c'ho tempo mentre tutti i paraculi si prendono le loro pause e anzi dicono vabbè se lo volete fare fatelo per il resto che dire comico è quando il pubblico ride ultramatici idromatici sistematici ma diplomatici per Nino Taranto in quante le donne vanno in bagno insieme se c'è un bagno pubblico due organizzano i pulmi vanno a pisciare a chi è che non gli è mai capitato un pulma di piscione sull'autostrada a tutti c'è dove venite da Loreto no venimo abbiamo passato le acque le terme ma tu le devi vedere che cosa so in bagno fanno la fila dal piazzale e già stanno così ma mica ridono trattengono fanno la fila e quando tocca a te donna c'è sempre una madre con una bambina mamma la pisce pisce madre e fia non ce la fai più entri in bagno non c'è la chiave non c'è la maniglia c'è manco un chiodo la borsa cinque chili di non se sa mai la guazza non v'ho spiato ma ha detto mi mui con la mano cerchi da il body sti tre gancetti maledetti che il primo si sgancia e il secondo si sgancia e il terzo si attacca la calza si sgara la calza la scarpa la mattonella e la parete le raccaccia le quattro che tu donna dici dentro la borsa che figura che sto a fare che nella borsa c'è sampaio di calze di ricambio ma la mattonella di sto colore e in quel momento tu donna pensi una cosa che ti ha sempre detto la mamma e alla mamma glielo diceva nonna e alla nonna glielo diceva la nonna non ti appoggia la tavoletta che ci sta nel micro che lo culo di nonna quella di mamma quella di sorda non hanno mai toccato le tavolette perché noi le tavolette non le toccamo noi le tavolette qualche tronco sì ma le tavolette no guarda danno questa cartigenica sulla finestrella perché c'è il culo degli uricchiechi quando c'è ricolla sopra un kleenex nella borsa c'è sicuro un vestito con una stampella un phon acceso un kleenex c'è lo strappano a metà perché l'altra metà non se sa mai escono dal bagno che sembrano Gollum nel signore degli anelli il mio tessoro vanno verso il lavabo un consiglio che dopo i donne l'acqua esce da sotto al rubinetto noi intorno dov'è? qua l'uomo che sale fuori si è comprato tre tomi di guerra e pace in lingua originale l'ha letti tutti come la vede arrivare la salute da Svidania io ho aspettato troppo tempo te qua è chiudo Nino Taranto tre minuti la tradizione del cabaret insomma è bravo lui è molto bravo Paolo ma lui taglia taglia le risate e crea un'onda continua dove appunto crei quella magia fantastica che rende stupendo il lavoro del comico e la bellezza nostra nel vedere un grande comico che si esibisce selvaggia la pensi allo stesso modo? io la penso allo stesso modo ti odio un po' Nino devo dirti la verità perché io all'idea che uno mi faccia ridere parlandomi di pipì di bagno di mutande di carta igienica proprio inorridisco però tu ci riesci quindi hai un talento incredibile ti chiedo solo si è rivista un po' ti chiedo anche tu hai un phon acceso il bordo senti Nino però io ti devo chiedere solo un favore tu qui alzi il livello della comicità di parecchi metri ma mi devi abbassare il cavallo dei pantaloni di qualche centimetro questo è bello ti prego Nino dai ho il cavallo molto alto ho il cavallo molto alto ha il corpo lungo ma l'ombelico dove ce l'hai in mezzo ai seni ma no venga sono normale l'ombelico è come un ciondolo per te con gli amici non c'ho bisogno di nemici è vero Pupia Vati il nostro grande maestro no io io sono d'accordissimo con tutti loro lui dà la sensazione di essere già molto rodato io non so adesso qual è il tuo curriculum ma dai la sensazione di essere uno che già da tempo fa questo lavoro che parte arriva e porta alla fine il risultato sapendo già che cos'è è arrivato il momento di dire i quattro nomi che potrebbero sperare di diventare eccezionale veramente Roberto Lipari potranno andare alla finalissima e con un minuto convincere la nostra giuria anche Getti e Baldieri con 39 punti e insieme a loro ci sarà anche con 37 voti punteggio finale Giovanni D'Angella e ancora uno potrà sperare di diventare eccezionale veramente basterà che con un minuto possa convincere la nostra straordinaria giuria alla quale farei un applauso caloroso con 34 punti Francesco D'Antonio i quattro super finalisti avranno a disposizione un minuto a testa per poter convincere i nostri giurati tra poco sorteggeremo il loro ordine di esibizione e quello che otterrà il punteggio più alto sarà l'eccezionale veramente solo quattro performer sono rimasti in gara e avranno solo un minuto per cercare l'eccezionalità cominciamo con Roberto Lipari sono felice di essere arrivato fin qui perché il mio sogno è sempre stata la televisione mi sono messa a gattonare per guardare meglio la tv ho fatto i primi passi per prendere il telecomando quando ero piccolo stavo sempre da mia nonna e lei si vedeva solo rete 4 solo rete 4 infatti la prima parola che ho detto è stata cambia canale però il mio grande rimpianto è che non mi sono riuscito a laureare anche perché in Sicilia il problema dell'università è che sono tutti parenti c'è la parentopoli c'è quello di economia che ha un figlio che insegna economia ma lo zio che va all'architettura e poi c'è il cugino a medicina sono una razza a parte si accoppiano tra di loro io una volta sono andato in segreteria mi sono lamentato ho detto è assurdo che la professoressa Bianchi non mi fa passare l'esame solo perché ho risposto male al professor Bianchi che è il suo cugino al primo anno è una cosa assurda dico ma qua siete tutti parenti ma che ragionamento è questo della professoressa il segretario mi ha guardato e mi ha detto lo so mi ha amato e ragiona così grande Robertino grazie grazie Roberto Roberto Lipari Getti e Baldieri io sono la regina dei travestimenti per Halloween infatti ho vestito il mio sprugolino da Godzilla l'ho spogliato nudo gli ho messo la maschera gli ho cacciato di casa e ha funzionato gridavano tutti e te credo c'è un pisello di fuori per un mese ho fatto un esperimento l'ho legato e abbiamo fatto sesso a colazione a pranzo e a cena tutti i giorni a colazione a pranzo e a cena poi ci siamo invertiti i ruoli lui mi ha legato ed è sparito ma dove è riandato? a magna zitto e adesso solo per te porco mi metto il perizoma con le fruste mi metto la cinta con le borchie e te che cosa ti metti? paura! zitto zitto eccoli i nostri ghetti e paldieri grazie Giovanni D'Angella ecco wow oh la finalmente finalmente insomma nei miei panni io sono felicissimo anch'io di aver partecipato eccezionale veramente ma devo dirvi che qualcosa di davvero eccezionale l'ho già fatta e non me ne vogliate insomma ed è mio figlio che è una creatura meravigliosa che mi dorme a fianco io al mattino mi sveglio con questo bambino noi dormiamo al buio e stamattina quella vocina dolce ti voglio tantissimo bene ragazzi a me mi si è stretto il cuoricino e ho detto amore anch'io ti voglio bene e lui è scoppiato a piangere in un pianto dirompente inconsolabile e ho detto amore ma cos'hai? pensavo fossi la mamma gioia di papà e pensare che mentre lo attendevo noi eravamo preoccupati io tantissimo no? tant'è che verso il settimo mese il pancione cresceva non volevo più far l'amore con mia moglie e lei fa ma cos'hai? ho paura ma di cosa? ti dico la verità ma non mi prendo in giro ho paura che il bambino mi senta amore non ti sento io cazzo ma dove vai? grazie Giovanni D'Angella grazie Giovanni l'ultimo che si batterà per il premio è Francesco D'Antonio è che la realtà è complicata è forviante voglio dire ti prendono in giro vai all'ospedale e appena arrivi ti prendono proprio in giro con la scritta là davanti che arrivi e si è scritto pronto soccorso non scrivete pronto soccorso perché poi uno ci crede che siete pronti a soccorso scrivete forse soccorso aspetta un momento soccorso aspetta domani soccorso no pronto soccorso ci sono stato dopo tre ore è arrivato il primario la prima domanda che mi fa come mai all'ospedale non ti senti bene? no sto benissimo veramente ma sempre dopo la discoteca io vengo all'ospedale i miei amici si vanno a mangiare il cornetto io voglio venire all'ospedale e che hai? non lo so se lo sapevo mi andavo a comprare il cornetto insieme ai miei amici poi sono stato da uno psicologo mi ha detto che il mio è un disturbo e si può togliere poi ha detto hai sogni nel cassetto ho fatto no il sogno l'ho messo in tasca così non lo perdo però forse il disturbo è meglio che lo tolgo vi vorrei richiamare sul palcoscenico i tre super finalisti Roberto Lipari Ghetti e Baldieri e Giovanni D'Angella guardateli bene giurati eh avete pochi istanti per votare eh poi le vostre schede verranno consegnate al nostro notaio tutto chiaro? prego adesso il nostro notaio al quale farei un grande applauso che ci ha gratificato con la sua presenza grazie notaio vado a prendere prego vai a prendere le schede dai nostri giurati e ritirati nelle tue stanze caro notaio con coscienza grazie cari bene grazie il nostro Pupia Vati che impressione hai avuto di questa intanto di questa trasmissione di questa gara di questo torneo del buon umore no quando mi ha chiamato Diego mi ha detto vedrai che ti diverti ehm spiediamo in bene ecco e io in effetti mi sono molto divertito ho la sensazione che i loro quattro rappresentino ognuno di loro una identità nella convinzione e questa è una cosa che vorrei dire asserire che attori si è non si diventa non si diventa attraverso la volontà e l'impegno si è e adesso leggerò i nomi al quarto posto Francesco D'Antonio io adesso salgo sul palco mi metto in mezzo a voi e vado a proclamare il vincitore di questa edizione di eccezionale ma prima vorrei qui sul palcoscenico la mia giuria non vi ho fatti mai alzare questa volta lo pretendo iniziando dal valente Paolo Rufini la sagace Selvaggia Lucarelli il mitico il sommo Diego Padantuono e l'emozionante Pupi Avati prego venite qui vicino a me ma per consegnare il premio Diego aiutami a dire insomma io vorrei la persona che ha che ha creduto nel progetto e ha prodotto questa trasmissione con grande con grande calore con grande passione e quella che poi ci hanno messo tutti quanti di questa trasmissione prego Pupi accomodati vorrei qui sul palcoscenico il nostro Maurizio Totti prego mettiti qui Maurizio vicino in centro in centro io metto vicino a Paolino metto qui in mezzo a Paolino allora dove vado proclamerò mi faccio una passeggiata il vincitore di questa edizione di eccezionale veramente e che potrà usufruire di un premio strepitoso e cioè un contratto di esclusiva per due anni con la Colorado Film del valore di 100.000 euro per il cinema e la tv è Roberto Lipari goditi goditi questo momento Roberto il pubblico è tutto per te il nostro Maurizio Totti è qui per darti il contratto guardalo guarda quanto è felice questo è per te vieni qui vieni qui non sta nella pelle questo è il contratto io sono felice felice per te ma sono felice perché abbiamo portato a termine questa grande grande trasmissione si è creata una certa magia qui in studio il pubblico è stato veramente caloroso ci ha appoggiato a casa anche ci hanno veramente accolto con calore vi saluto tutti Gabriele Cisni grazie e Dio ve benedica rimanete ancora un po' con noi perché ci sarà l'esibizione del nostro primo classificato Roberto Lipari leggerò una lettera contro l'ordine perché io amo il disordine mia madre dice che se sei disordinato non trovi le cose e fai brutta figura e invece ho scritto ragazzi perché mia madre dice che se non trovi le cose ti innervosisce perché trovi una a posto di un'altra e invece perché poi comincia a balbettare quando non le trovi e invece non è vero che poi dice se non le trovi comincia a dire le parolacce e invece affanculo vado a braccio a me dell'ordine non me ne frega niente la madre è ordinatissima lei di base ordina tu poi gli dici mamma me la sistemi questa cosa non è che te la sistemi te la nasconde a distanza di un mese mamma dove l'hai messa l'ho sistemata così bene che non la trovo più è un vizio che hanno tutte le mamme pure la mamma delle mamme la madonna una volta Gesù gli ha detto mamma me lo sistemi il santo graal e infatti faccio ovolo che ancora lo c'è io diamo l'ordine alle cose quando dobbiamo dare un ordine alla logica viviamo senza ordine logico fin da bambine elementari i problemi di logica matematica non hanno un ordine logico c'è sempre questa mamma che va al mercato compra 4 mele torna a casa ne cadono 3 e tu devi sapere quante mele sono rimaste una volta andata al mercato ha comprato 20 mele mentre tornava a casa ne sono cadute 16 e tu dovevi sapere ma dico io ma non te ne accorgi 16 mele a terra una volta melone angure cocomera poi a casa a braccina corta alle feste di compleanno compra 8 caramelle per 10 bambini se i bambini si mangiano 7 quinti di caramello 8 settimi di pane 9 decimi di torta ma compra c'è il caramello e pezzi di tirchia get the course io il problema è che sono dei traumi infatti pure quando crescono molti non hanno un ordine logico nel loro lavoro per esempio i dentisti non capisco perché il dentista prima ti paralizza la bocca poi ti mette il gancio poi l'aspiratore e dopo ti fa le domande ma come minchia ti risponde il problema è chi non ha ordine logico vuole dare l'ordine a tutto per esempio anche i sentimenti con la frase tipica che qual è il tuo uomo ideale non esiste infatti le risposte sono confuse il mio uomo ideale deve essere sicuro ma indeciso calmo ma aggressivo triste ma allegro uno schizofrenico questo non sa che cazzo che fare prima in realtà è che nella vita ci sono cose che hanno un ordine e altre che non ce l'hanno e questo hanno capito gli artisti gli artisti vedono oltre l'ordinario vedono nello straordinario è così che un pittore da un paesaggio vede un quadro uno scultore da una pietra vede una statua e un comico da una gaffa iniziale basta mettere tutto nell'ordine giusto e riesce sempre a strappare un sorriso bravo 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 bravo